Ma si ho capito chi era, ho capito, ho capito. Siamo in live, Francesco. Bella raga, anche se adesso io faccio io lo spettatore della live. No, no, io lo faccio sempre, lo faccio sempre per, per i commenti, sì. Cioè, ci sarebbe un modo per vederli da... Sì, cioè, però è brutto. E la live, no, fra, togli il volume. Se no è un... Ma scusa, c'è il volume, lo faccio vedere se c'è qualcuno, l'ho tolto. Eh, lo vedo solo io, dallo schermo, si vede in onda sopra. Lo vedo io. Eh, ci sarebbe per vedere i commenti di fianco, solo che poi viene... La live diminuisce di qualità. Lo facciamo in tre. Ciao Marco. Sì, in due. Marco è sempre il primo a venire nelle mie storie. Marco, guarda questo meraviglioso che ha fatto. No, ancora? No, spero, io non mi ricordo più come cazzo si gioca. Allora, io sì, ti che stravelo, il soggetto di prendi a cazzotti, l'astardo, negro, come... Cazzo, voi, a lesbica? Come che si chiamano le armi? Come in CTA? Io voglio cambiare armi. Guarda che bella la mia bellissima colpa. Oh, no, io ho questa francese. Amore, mi... Hanno messo da tutti, lo sai? No, dobbiamo andare subito. Ma io... Devo andare subito in quel posto. C'è anche il seed dell'orto che ci dice Nabi, ma sotto non ce l'hai neanche. Nabi, tu, madre, Sidi. Guarda Nabi, guarda, guarda Nabi. Guarda, guarda Nabi. Guarda, guarda Nabi. Guarda, guarda Nabi. Mario, facciamo. Sì, io devo però prima andare alla città, come si chiamavano i veicoli? Sì, che andare di andare in un negozio di veicoli. Cioè, non puoi non ricordarti questo. No, francese, io ti giuro, non mi ricordo di questo. Una capra! Muori! Stronza! Saccheggiare. Perché non la posso saccheggiare? Ma perché sono pieno, ma che sono pieno. No, ma non questo, andiamo con lo spostamento rapido, no? No, no. Aspetta che salgo dietro. Tanto siamo qui. Ma no, che cazzo, non così tanto dietro, fa niente. Yeah! Siamo in Tokyo. Siamo in Tokyo. Ah, è vero che qua... Ho un barret fuori da un clean stream, è pazzasco questa cosa. Cioè, sono sport con un barret automatico. No, quanto è bello sto gioco. Figa sì, io ci ne erdo un botto, adesso ti mani. No, io vado in Sicilia, quindi. Ma in realtà anche tra cinque giorni ne parto, però non importa. O dico oggi, la boom. Sposta dall'angorso. C'è un fucking gorcio! Non mazzalo. Io prendo le mie bellissime macchine per andare a caccia. Ehm, 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 stronzo! Ma che... Ma dove cazzo è? È partito l'orso! Ma sto figlio di puttana! No, fa... Orso di smorto. Che cazzo vogliono da me? Ma sono bastardi! Sì, sì. Ma c'è il prete qua, no? Perché hanno ucciso il prete? No, il prete è bellissimo! Adesso guardo il negozio che non lo guardo da... Aspetta che intanto... Puma non ce l'ha. Ce l'ha quei cristiani, il Puma. Puma è... Minchia quanta roba che ho da vendere! Che c'è nella live? Marco e Sid. Ok, allora. Vabbè, la beretta, carina. Vabbè, vabbè, va... No, è lanciapale! Bellissimo! No, c'è il Vector! Oh, Gesù! Io devo comprarmi il Vector, tipo subito. Cos'è il Vector? È un'arma a cazzotti. No, fra c'è la pala... Con i chiovi, vabbè, c'era già. Però questa è americana, è più tamarra. La Desert Eagle! Mamma mia! Alla fine io ho tutte le altre armi, però nel senso... La Desert Eagle è tanta roba. No, fra c'è la pistola nazista, la Pizzeroth! C'è la pistola nazista? È una pistola nazista. Ma io mi metto la Magnum. No, cazzata, mi tengo questa. I Pumpe hanno aggiunto qualcosa, oltre al mio... Spasso tamarrissimo. Sì, hanno aggiunto un Pumpe. Poi cosa c'è? Nei mitra... No, no, no. Questo forse è la mia P5, vabbè. Porco Dio! No, fra! Fra! Che c'è sta arma? Non l'ho mai vista! Che arma? È una arma, si chiama BP2. Mi sa che è raffica. Ovviamente poi la Desert d'Oro. È arrivata dall'Europa dell'Est. Ma tu c'hai già la Desert? No, non la Desert, scusami, non è 1901. No, fra, hanno aggiunto un uovo... Madò! È un uovo mitraglione cazzutissimo! Vabbè, adesso prepariamoci per la caccia. Ci sono per la caccia. Adesso mi metto l'Arc. Allora, intanto mi metto l'Arc. Allora, intanto mi metto l'Arc. C'è un po' da caccia, però non quello... No, certo. C'è un po' tipo Spasso. Io c'è proprio quello di legno. Sì, sì. Bello, bello. Allora, scusami, mi prendo un cerchino di quelli... Perché c'è il Barat, il Barat mi metto da caccia, diciamo. No. Perché li spappola con te. Io questo qua è bellissimo. Da marro, eh, ma è bellissimo. Io cecchini ce li ho tutti. Tranne... Il morso di squalo che mi sembrava inutile. C'è pure la carabina Outframe, che bellissimo. Io no, neanche... Lui non ce l'ho. Non è da caccia, c'è. Non so, non è da caccia. Però è bello il mio... Mi sa che non è un'arma perché non l'ho mai comprata. Anche se lo spasolo vorrei aggiungere, ma... No. La Desert Eagle è cazzotissima, però. Cioè, io la voglio, la fucking Desert Eagle. Non so se comprami prima lo spara-pale o la Desert Eagle. Intanto mi metto la Magnum, che fa più danno. Anzi, no, mi mette il pompa, questo qua. No, prendi una pistola. Un cacciatore è sempre una pistola con sé. Ma è tipo... È quando ammazzavi la sorella. Hanno aggiunto anche... Fra, hanno aggiunto anche un'arma di... Hanno aggiunto il waffle di VV2, perché segue VV2, lo conosce bene. Quanto è bello lo spara-pale. Non c'è qualcuno nella live, né? Boh, se c'è qualcuno nella live, lo scrivo. Dai, mi metto la Magnum. Anche se mi piaceva... Non aggiunto anche il Vector, comunque. Te l'ho detto prima, sì, l'ho vista. Infatti, non so se comprarmi prima il Vector... Ho la Desert Eagle. Il Vector è molto schifo, troppo. No, è forte il Vector, però. Io voglio comprarmi la Desert così, perché voglio fare questa stronzata. È forte il Vector. Io potrei anche farlo, però... Ma io sono 1900, pure il Lanciavang, io voglio. Ma mi sa che mi compri la Desert Eagle. Io ho il tirapugno. Bellissimo. Metto il silenziatore sulla carabina da caccia. Io non l'ho presa la carabina. Io ho la carabina 300... 308. Che è proprio da caccia. Sì, lo so. La vanga. Posso sparare le vanga, è vero, me l'ero scordata. Io acquisto un paio di braille. Cosate, che fucile hai preso da caccia, tu di principale? Eh, adesso te lo dico. Un attimo, devi guardare. Perché ho acquistato una vanga? Non lo so neanche io. Io vado col mio quaddino, caccia, se puoi vuoi salire, tu. Cioè, è quad macchina, non so se hai capito qual è. Sì, l'hai capito qual è. Quello bellissimo. Ah, sì, no, lo prendo anch'io. Tipo il d'un buggy. Come principale io ho l'arco. E comunque ho questa specie... È un pompa cecchino. Eh, neanche io so come avreste fatto senza di me. Chi? Eh, questi qua, mi fa il senso. Dai, muoviti garage! Garage! Garage muo... Perché non si muove il garage? Nove anni per sto cazzo di garage. Mevo un po' d'acqua a ghiacciare. Ma rinuncio. Beh, non mi carica. Non mi puoi per andare. Ma comunque non c'è più nessuno in live. Datata... Che palla, ti ricordi quando ti si baggava e vi diceva attendere per mezz'ora? c'è il composto deve andare perché c'era uno che ho mai lì conosceva i posti deve andare io avevo visto insieme alcuni che è la vita dove c'è un ponte però ricordo se in questa regione nella io andare dove ci sono i cerbiati della coda bianca che danno un botto hanno aggiunto anche noi veicoli antiro capra no una gente un picca pet fermo cerbiato della coda bianca l'ho trovato ma davano di più le alci e i lupi no fra io conosco un posto dove ti danno veramente tanto ma io voglio andare a caccia di cose serie non di animali feroci cioè di orsi ad esempio forse americano nero non è un animale feroce ma nel senso di solito non si va a caccia di puma gli orsi si però è tipo nella regione di jacob voglio in questa regione no no mario dietro di noi c'è un posto che se non c'è che la coda bianca di un modo vicinissimo questi danno un botto poi piano lì quando arrivi lì vai piano facciamo le macchine hanno messo delle cose bellissime ora c'è il rumore della mano fra me sono incastrato mi servono a botta arrivo arrivo come mi sono incastrato sono troppo belle ste robine qui a me che c'è un casino bravo non mi hai scastrato come no è la macchina perfetta per andare a caccia vabbè vengono da con te vabbè vengono da con te non mi vestire ti posso sabotare tutto non farlo perchè dimmi comincia sta sul caccio come fai scuola dimmi che sono civili sennò lì in cui lavò un malizio non sparare non sparare no però dobbiamo andare anche però dove c'è qui 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 va bene dove ci sono i campi per ammazzare le mucche e prendere io ce le ho ma non do per adesso dobbiamo cacciare le salbiate mario io fermo in mano il pompa per adesso bisognave lo stramonio cazzo stramonio ma dove c'è tutto io le piante ce le ho tutte piene lo stramonio io ho consumato l'arco dove sei tu qui vicino a te cosa che hai consumato l'origano c'è l'arco si apposto cioè in realtà ho anche questo e questo a me l'arco lo preferivo bello più l'arco lo preferivo in qualche quarto si era forte però però dobbiamo usare le esche noi dobbiamo usare le esche i cerbiati ah fuck è vero carmi c'è il viaggio quello è il bello ci vuole pazienza senza ho visto mandare boomer in avan scoperto eh c'ho la pucciottina eh ma pucciottina è più per uccidere infatti adesso boomer per andare prendo boomer io mi metto colpi perforanti la 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 ho visti ho visti fra fermo 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 grande mario andiamo a prendere già la la pelle dell'altro c'è un altro no c'è un orso fuck fermo 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 carabinato a rato ma quest'anno è veramente cazzutissimo cos'è che hai è una specie di con la carica non è questa è questo qua ti carichi con ah no bello è pompa a doppia canna si non lo so io non l'ho mai comprato ma la ce l'avevo io ce l'avevo però ho preso quello classico dove era la capa che si stava mandando ecco anche questa so che fatta che io non c'è un'esca come si lanciavano l'esca le metto le metti e poi con r1 fermo fermo non lanciare un cazzo fermo c'è un cerve bello non sparare c'è anche un lupo fuck e ammazzalo tu io ho ammazzato il cervo ammazzato il lupo il cervo in esso perfetto mario il lupo qua di 9 il lupo non lo trovo per mi porti al lupo eh si si guarda che bel cervo minchia cervo alfa figlio che è il shock che gli ho fatto bellissimo alcuni abbandona e non si capisce allora qui eccolo bellissimo quel cervo figlio minchia l'arco guarda che è cazzotissimo ma fra andiamo dalle mucche e ammazziamo le mucche che cazzo spari a 10 anni non li prenderei mai poi ti danno solo ah si l'hai presi li ho presi danno solo le piume cioè sono un po' inutili ecco ma c'è gusto dell'ammazzarli mi piace cos'è 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 aspetta che fermo c'è un tacchino non è morto ma che cazzo è ho preso devi mandare boomer no no più bello ammazzarli per sé i tacchini e bello ammazzarli con l'arco mario ma infatti uso quasi solo la uh esca esca la tironesca io la tiro un esca la tirata apposta tipo un po' abbassato così che bello cacciare così che c'è un morco dove cazzo è l'animale di merda eh magari io non arrivo non è che arriva sempre eh ma l'hai tirato dove ci sono tutti quei coglioni che sparano non teniamoci data di tutti no no ho sentito qualcosa eccolo eccolo morto la freccia capobranco fra questi stronzi li ammazzo perchè mi stanno sulle palle così proprio poi c'era un po' nel cazzo Mario dai ora non c'era un proprio cazzo u ti becca ti becca oh francesco c'è un altro cerbiato non fare coglioni fermo no franche quasi ci sono degli animali mi pensa a quelli che si oh no calma tu guarda che lo fa scappare oh no fermo mario non venire qui con troppa la violenza dov'è che si è seduto no cazzo ho mandato boomer adesso io lo seguo finchè non si ferma no l'ho ferito ah beh boomer l'ha finito perfetto non ti spostavo fra c'è un animale da vicino io vieni qui che ci sono due animali dobbiamo dobbiamo fermo mario no fermo fermo fra nemmi dove erano mirarli dobbiamo vi sono qui dove sono io qui no no mario vai piarsi ci sentiamo oh mario io punto il cervo a sinistra vicino all'albero tutto io vorrei essere si aspetta 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 è uno morto ti ho detto di aspettare aspetta ma che stavano alzando morto perfetto picchia fortuna che quest'arma un cecchino cazzo bellissima con l'arma sì sì è una delle armi preferite quanto mi mancava questo gioco anche a me figa ieri c'ho giocato alcuni entra nella lobby che cacciamo come di porci si può giocare in sei oh quanto pare si si non lo so prova a entrare si ti ho invitato cioè dovesti avere degli inviti prova a entrare sarebbe bello giocare in tre figo facciamo una battuta di caccia di quelle belle io poi andrei nella nella eh non puoi allora io poi andrei dopo nella regione di jacob e allora prova come faccio ad invitarlo mario non lo so vai su opzioni e fai non lo so opzioni eh non lo so fra non so che non si può no ah invece si aspetta no prova c'è una mucca farà eh ammazzala 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 con un coltello con qualcosa di più senza sparare oppure un colpo in testa almeno più non lo so non lo so non lo so non lo so mi servono le esche dove che cazzo è che cazzo è l'animale bastardo quella la usiamo la mucca l'ammazia non l'ammazzare l'ammazziamola solo quando ci servono le esche ma dove è l'animale bastardo e magari non è arrivato non è arrivato non è arrivato sembra che non ci siano animali interessati alle esche figli di puttana eh ma qui ma qui è non c'è un'altra è troppo pieno secondo me eh no forse qua arriva qualcuno ritorniamo nella zona dei cerbiati mario io vado alla zona dei cerbiati vieni anche tu ammazzo prima la mucca io so tutte le esche al massimo un animale fuck e il toro ah quel bastardo d'interno so quella di una mucca vieni qua e allora mi sai come si può ok ho sentito dei ruggiti fa c'è un negozio qua proteggiamo la puttana si c'è un orso morte 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 figa andiamo dalla tipo che dove vendiamo le pelli e poi prendo i colpi io cambio pompa prendo quello che hai tu perché è più cecchino che pompa qua tipo perché scappa però puttana fermati un attimo no stronza vieni qua sta soccola oh allora oggetti vende già 5000 puttana beh è il cervo che vale così tanto munizione è questo ma tu hai come principale è quella che si carica tipo western che fai da sotto fai cicci il no io come principale ho detto uso il pompa l'arco allora tu dici le winchester eh sì comunque c'è la winchester però quello non c'è quello nelle armi non è pompa il 45 70 ma sai cosa secondo me il 45 70 t è devastante ma in realtà è uguale anche se la k mi spie la k mi ricorda no io non porto la k a caccia non ha senso te la raccomando si ma non puoi usarla a cacciare da bastardi il lancio a fiamma allora porta tutto ragazzo vado da mettere il resto dell'arco per me eh beh è dura è l'orso sai che i bastardi devo cambiare mirino perchè non mi fa sbloccare le nuove canne la pesca neanche a me dopo dobbiamo fare tipo delle cose però non ho voglia di farle neanche io non pensavo che avrei mai incontrato chi ha ucciso a caccia ma io mi tengo comunque la k ah hanno messo nuovo fucile comunque una k hanno messo più di 2 è quello che ti dicevo io ecco ritorniamoli dove ci sono i cerbiati tu hai un fucile di precisione no come no non cosa spari col pompa c'è il coso qua è un fucile di precisione praticamente l c'è una vera qua il sbs il 45 70 ah ma è ah ho capito è proprio fucile d'assalto si è un fucile d'assalto ma più il cecchino c'è un'arma secondo me troppo più perché shot c'è un cerbiatto l'ho visto non l'ho preso bene fuma abbastanza si ho ferito qua ce ne sono altri vai 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 noi siamo delle boste chi siamo dove l'altro era qui ecco no eccolo qua dove è l'altro che ha ucciso tu che stava fuggendo il mio è del piede della coda bianca quello che stava fuggendo quello che stava fuggendo quello che stava fuggendo sai che non lo so aveva preso boomer non lo so non lo so non lo so mi dà fastidio perdere i riprenditori pure a me è un voto stico che spara mi sono uscite della zona ma mi rimane in questa zona qua c'è una cosa un puntino rosso io vado verso il puntino rosso non è un fucking orso bianco fra sta fuggendo forse di merda io ho visto di qua l'hanno ammazzato no no l'hanno ammazzato vai lo prendiamo dove fuggi stronzo ucciso con i colpi perforanti veramente non è un grosso bianco un grosso è grigio comunque nero alfa minchia questi valgono si figa quindi stai lottando con il tuo rinorso per quanto ecco perché sentivo le cose dell'orso stai lottando con il tuo rinorso vero ora camminiamo piano non corriamo figa con io ti muto è un casino della madonna si ah si guarda che bello è che sono i miei tirapugni che frotto no poco ma così me va bene no non si sente in realtà no meglio dell'altro che avevi te lo fa si se non è qua in giro ci sento un'animale fra si perché non siamo nella zona c'è un'animale c'è un'animale c'è un'animale dove è un fucking cane di merda lascia lascia si si ma che l'ho ammazza il cane quei bastardi e deniti stanno cercando di ancora questi deniti mamma mia si è messo a male qui siamo nel punto esatto dei cerbiati ma io i cerbiati non è che ne avete fatti non è che le alci danno un botto però io te l'ho detto andiamo andiamo nella regione di jacob che ci sono le alci ci sono i pummi ci sono i lupi andiamoci voglio trovare un altro cerbiato però qua sopra qua sopra io mi trasporto subito com'è che ci si trasportava mi trasporto io tu non puoi come è che è qua sopra a Maria ma com'è che si fa se fa il teletrasporto devo farlo io Mario per forza sono io vostro cosa che non so si ce l'ha anche Mario io ho quell'arancione ci sta ci sta maestra bello no a me c'è nero perché è boh mi piace bravo qua sopra facciamo le stragi devi chiamare le esche ma tu non puoi capire quanta roba c'è dobbiamo andare là sopra dove c'è quella torre tipo ma andiamo dove c'è l'alce ma l'alce è qui dove l'alce qua c'è il grizzly fra qua vicino qui c'è l'orso lì sopra da quella qui c'è l'orso grizzly andiamo di su che c'è l'orso grizzly l'alba 121 vai un animale un fucking un cervo non c'è più ce n'era un altro no quello è un altro cazzo ci serve dove 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 prenderlo è la la più avanti ho visto non è da solo forse l'ho hitato no io voglio quel cazzo di cervo dobbiamo seguirlo se prende boomer tanto la cazzo la cura che lo prendo perché poi lo prendiamo di vista io ne ho chiuso per il cervo bastardo io voglio quel cervo qua ce n'è uno ma ne un'altra quello che ha un cisboomer dovrebbe essere un alfa no non c'è più è scappata l'ho fatto scappare ma non è riuscito a prenderlo ma comunque quando è ucciso ma che pompa ai tu non è un pompa eh winchester fratele ditte 45 e 70 vieni qua ma cazzotissimo qua c'è uno che ho messo io che è forte sì ma non lo so usare qua fra c'è un batto di roba qua vengono solo grizi no no perché tira una esca tu stai fermo qua vengono solo grizi non vediamo c'è la progresso dei lupi o cazzano e quali di mario mario mi ha detto mi spavolato in faccia se tu riusciti nel lupi quale tira un altro ne ha aperto a un'altra ammazzamolo da lontano che ciò bello che ha di avere un'enso bello al faccio beach no 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 porca puttana francello stronzo mi ha attaccato quel bastardo cambiamo posto perché poi si tutti i cadaveri mi è arrivato in faccia proprio è stato orribile però la più bella io resta nel 4 quando le scorciare si era molto più bello france va un'ateli aspetta che va a prendere spara non sono neanche serviti no grizzly questo era un grizzly l'altro è un morso nero peschiamo un attimo no io sono scherzo pescare c'era un altro animale stai vicino però problema ti provo a pescare qualcosa grizzly no è un orso nero tutta è un verito pescando no fuck mi ha attaccato mi ha attaccato il bastardo ammette che stronzo di merda perché io non posso aiutarti te l'hai fatta? si si però non lo più esco vado che cosa arriva vabbè quando sei nella regione di quella caroia di fate quando trovi quando trovi la marmotta e poi un orso eh ti cagli addosso però vabbè c'è un animale si ma non lo vedo si è presente quando non vedi l'attacca di mira poi che succede? si che cazzo? oh dove cazzo è andato? fuma di merda eh ma in che ragione è? è quella di fate è vero? no che si fermo Mario c'è o c'è qualcos'altro? è molto lontano ma non so cos'è ma dove? è una puzzola di merda vabbè affanculo va ero lì tutto cecchino in quel cecchino da sempre ma gli alci dove sono? voglio andare a prendere le alci Mario andiamo a fare una bella caccia eh cerca le alci quindi in che regione sei che vedi le alci tu? che regione hai di fate? e dove? in quella di Jacob ci sono quello di Jacob è più facile trovare gli orsi grizzli o così pure comunque pescare è pieno di qui non sono mai andato ma non è che io non ci sono un po' di posti dove non sono mai c'ho il caribù fra fra qua c'è il caribù poi ci sono i cinghiali in un altro posto che è vicino andiamo a caribù caribù sono andando comunque metti il puntino dove che sono? caribù è qui figa? e basta che ti teletrasporti in realtà si andiamo andiamo vinci che bello sto gioco è troppo sciallo abbiamo indimenticato cosa significa? cazzo si è comodissimo l'elicottero se prendevi la deluxe trodava gratis cioè gratis il cazzo però nel senso ma preordinandolo costava solo 70 cioè costava come ma ormai ma stai dicendo tutte cose che dovevi fare prima di comprare cazzo si lo so lui sparo ho ammazzato un pesce ho ammazzato un pesce non ci credo si ci sono dei nemici? ancora esistono i nemici in questo posto? però non me lo fa prendere si gli sparo che palle ma io vorrei pescare con l'arco quando vedi pesce galla e spara io con l'arco non è mai affigato ma puoi farlo però quelli vai a prendere Anne che qua in giro ci sono i caribou poi caribou non si può sentire ho sentito ho sentito i suoni di caribou andiamo verso quel laghetto là Mario ma di qua fra ho sentito i suoni di caribou eh qua c'è un cartello con caribou vai piano lentamente il radio nella regione nella regione della zaccola è dappertutto te lo trovi e questo è la zaccola poi è il boss finale peggiore da fare una noia mortale è finire il mio boss finale preferito è quello di questa regione qui no al mio ancora di non mi ricordo il nome vedo un caribou di di giovanna no si non è un caribou pronto? vabbè è un cervo pronto fai ho ferito l'ho ferito tanto è lento di fa boomer di andare a prenderlo eccolo il caribou eccolo vabbè è un caribou vabbè è un caribou loitato ucciso è morto vai 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 perfetto vabbè è un caribou che è il caribou ti da un batto ma poi c'è un puntino rosso in realtà probabilmente è un serpente di merda mori serpente del cazzo comunque il gecko mi dice quella dove devi cerchicinare le bosse è molto più bella è difficilissimo quella però si è più bella ci sono i lupi così mi piace che odio io godo un botto noi ci possiamo mettere su queste torrette di che in realtà sarebbero fatte apposta per cacciare sì ma sono per nab basta avere pazienza aspettare venico su mario scendiamo col cavo qui ci sono delle frecce mario ok scendiamo non si vede un tazzo hai delle schif- oh fraccia è un cervo non c'è più bravo mi piace quel fucile che suona che fa caribù si trova più cerbi che caribù si probabilmente qui ce n'era un altro c'era perché di solito di vicino è torniamo più su andiamo dopo dove ci sono dove c'è il signorio becine foto è vero madonna quando mi sassi cazzo gli angeli di odio c'è un animale dove cazzo è perché tu li vedi dove l'ho insegnato qua due animali il puntino ecco qua c'è un animale rosso è lontano no è una puzzola di merda era una puzzola no no è una puzzola di merda è anche quello è vero che in farcay era il primo coltello che trovi che chiedevano proprio quello in farcay 4 era perché era convincentrato morto si si è vero è vero ma poi con il coltello ce l'ho ammazzavi anche i jungler non ti raccoglio quello del bello ma noi scaliamo sta montagna qua qua ci sono i caribou c'è il segnale ma non c'è il segnale Mario questo cartello cos'è c'è con te vabbè più o meno io vado sulla monta in qua perché boomer c'ha qualcosa che non va farò visto qualcosa farò visto qualcosa sì lo so è un orso io sono sulla monta dove? aspetta Mario fammelo cicchiniare da con lontano poi tu lo finisci non l'ho preso puoi sparargli bravo perché secondo te io lo prendo con la mia carabina da qui eh vabbè non sono abituato di solito uso il barrel questo cicchino qua è per un colpo non so no perché perché cosa scusa è vero c'è quella in poi c'è anche una storia nel vieto non mi sembra però quella del vieto non so che è bello non credo che non andrò Mario mi sa che boomer ha visto un caribou quella sta scappando dove? ne ha visti due di caribou aspetta aspetta non so se sono caribou però ha visto qualcosa io dove sono io sto guardando però non è facile si sono fermati stai ferma non devi sparare sono due cervi ma dove? seguiamoli lentamente mario davanti a noi dove sei tu? lì davanti ma c'è un lupo c'è un lupo che si insegue a un cervo un cervo della coda bianca vai piano sono lì a destra mario li vedi? cerchi a destra cazzo no li vedi ora? va a punta ci sono i segnalini no non li vedo seguiamoli piano ma fra di là c'era un cervo della coda bianca che è molto meglio seguili piano dobbiamo avvicinarci io sparo a questo qua se devo sparare vai ammazzato ammazzato dove è l'altro? dove cazzo è? spariscono figa ecco no dove cazzo è questo? eccolo sparo di cervo e sca aveva visto un lupo che insegue a un cervo dove c'è l'altro mario? l'altro che hai ucciso tu era sull'albero tipo dove c'è? dove c'è? dove c'è tipo qui 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 è una malattia saccheggiata il bastardo ma che ci dobbiamo sentire magari io ho visto un bastardo di lupo che insegueva un cervo della coda bianca e c'era video invece tornassimo indietro oppure no no andassimo bu andiamo in posto un cazzo di orso guarda il tuo mario mi carica mi carica no 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 farà bene verso di te ammazzalo l'ho ammazzato con la freccia ma pensavo fosse qui vai quattro? quattro di pelle di orso minchia la vinico quattro anche perché 4 ma non si vede che era grosso si ho sentito uno spot ah vabbè è la sotto vedi me che animale si va bene a un altro punto sarà un animale di merda tipo una subedicata con un fumadoro no purtroppo no chissà anche bello andrà a cacciare gli scuoli io non riesco a questa ambientazione che tutti gli altri fai perché questa c'è sia collina che montagna c'è a me che c'è un sacco si questa è bella però gli scuoli prendi 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 ma che cazzo mi hai fatto che che erodosa sono uccelli c'erano un animale rosso qui beh ma erano galli quello è un gallo cedrone mario vabbè fra vabbè sento un orso è un fucking lupo che orso perché io ti perdo di vista devi stare vicini vieni qua che c'è un lupo vabbè questo tipo di vabbè 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 io ti ero un'esca si ma è una merda non ti dai niente lo fai solo per ammazzarli come non ci siano nemmeno esatto spendi solo soldi cioè non è incentrato su quello puoi farlo se ti fii mi divertivo da piccola parla ma tanto c'è un'esparcola del puma dell'ambiente ma delle mucche nelle montagne non è che c'era dei daini i cervi ci sono non è niente richiede ma con l'ammazzo l'ammazzo io sono pieno andiamo dove a fare prova mia aspettiamoci dai dai lo stavo prendendo ammazzate dai mi si è rotta la mazza becci stavo prendendo ammazzate l'orso era divertente ma il mio pranzo dov'è scusatemi io mi perdevo sempre qua io mi perdo ancora sempre qua oh cazzo dov'è si si io continuo a perdermi che cazzo è il negozio che cazzo è il negozio forco di dio i white tail si sa che i white tail 6.000 figami da me quasi 7 no fra mi posso vestire come come quello di assassin creed e anche come lo sheriff lo sheriff di white rose e anche da jacob da joseph e da john no fra lo posso vestire da pagan min se vai su ma ci sono le maschere ma quanta roba figa hanno aggiunto c'è la maschera con la zucca bellissima ma io investo serio i miei giochi anch'io però io sono negra bellissimo la maschera con vestire da prete puoi vestire pure da gesù mi chiedo 13.000 dollari non so cosa prendermi non so se prendermi il vector la lancia vang o la desert eagle anche se la desert eagle d'oro da pappone c'è anche il winchester quello vero classico che mi ispira peccato che non hanno aggiunto un nuovo cecchino però non so che arma prendere fra fra tu cosa prendi tra la desert eagle il vector e lo sparavang io per adesso mi prendo proprio un cazzo perché che è buono non mi serve io mi prendo la desert eagle beh le pistole ce l'ho quasi tutte posso fare la desert eagle il viola cioè di tutti i colori verde viola blu giallo che in realtà è un po' ora il rosso io faccio il viola mi sono messo il barrette adesso vedi come cazzo facciamo altro che un colpo sono due colpi Io come assalto devo avere sempre l'AK, cioè non ho altre cose, AK punto. Ma si è detto che non era da... Non la uso per cacciare, però ce l'ho sempre, cioè non la uso mai, ma ce l'ho sempre. Quindi ce l'ho comprato una nuova arma, la MS-16 Trooper, voglio provarla. Qual è? È tipo una caraventina. Secondo me è molto cazzuta. È bellissima. Su cos'è? È tipo Yimitra, mi ricordo come si chiama. No, non è su Yimitra. Sì. Il BP2 c'è, non c'è l'MS? Sì, l'MS-16 Trooper, è prima dell'AK. Tu quelli AKP-ai? Ah, ma io ce l'ho già, è cazzutissimo. Perché tu quelli AKP-ai, l'AKP-M e l'AKP-47? Io ce l'ho tutte, a parte quella classica. C'ho l'AKP-M e l'AKP-Warrior. 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 Io ho preso quella classica e basta. Io voglio il BP2. Comunque c'ho anch'io l'MS-16 Trooper. Non l'ho mai presa, non l'ho mai presa. È una bestia. 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 Sono un aviatore. È bellissima. È platinato. È una mimetica tipo invernale. È carino. È tempesta, si chiama. Beh, certo. Ti piace. Perché l'hai fatto tu. Mi stanno sul cazzo questi qui white tail? Ho trovato l'uscita la prima volta che l'ho trovata subito. No, io non l'ho mai trovata subito. Ma mai, eh. Infatti ho detto la prima volta. La luce, che dolore. Andiamo a cinghiale, ti prego. Andiamo a cinghiale. Sì, andiamo a cinghiale. Scusiamo rapidamente. che dove se sei user di metto lo spari velocissimo fate tanta tata Sì lo sai usare il grilletto basta schiacciare e io lo so usare benissimo Sai sgrillettare bene Mario D'addio. Quanto mi arrapi. Quanto mi Bezard arrapi In culo e dagli e biji. Ti ricordi il dissi tra biji e bezard? Mi spacco un botto che cazzo era Vigi ha fatto una canzone spezzacuoli ma che ha fatto altre canzoni Io l'ho lasciato la tipa e quindi ha fatto sì sì si fa su youtube La tipa l'ha lasciata ha fatto una canzone tipo alla side tutto depresso ma che andiamoci in genere segnalini Ma fa schifo c'è la cosa più stona c'è la base ci può anche stare ma è risonatissimo ascolta le prego Beh boh non lo so quello tanto tempo fa I scinghiale comunque mi ricordo che non davano tantissimo Ma che cazzo me ne prega è bello cacciare i cinghiali Le alci danno tanto Vabbè anche pure cinghiale ma in che ragione sono Però guarda quant'è tamarra La mia desertiva Sai che io non ho tanto ero in culo Non l'aspettavo molto più Che schifo viola Fermo Mario Voglio vederla bene Un d'oro non c'era Per me la fai con me Si è un botto ci sta Mario Fra Mario io lancio l'esca Fra a me non piace questo mondo croere io mi butto giù Mi seciglio Io no Io lancio un'esca Non ci sono animali interessati a un'esca miieni beh seguimi fra trovo ma io non giudico come si apre la roba vabbè io rischio si si fa schifo da perché non ci sono animali bastardi un secondo dopo io faccio arrampicata io voglio vedere le alici io devo fare arrampicata su sto gioco il numero stanno in giro correndo cosa sta seguendo boomer non capisco bellissimo la nostra venendo da te sono rientrate sono morto ma poi si deve venire salvare no no sono vivo ok infatti pensavo per un attimo che fossi morto vi stavo venendo a salvare un figlio ma gli animali non la vogliono la cazzo di carne le mani sono scherzi come scoperto ora che c'è un'altra legione non ci credo e ritardata se finisci la storia a ma dici la regione di giovese anche io non avevo visto all'inizio però poi lo scoperto non ci fai non ci fai non ci fai non ci fai ma no perché se non mi faceva salire perché se se non ti levavi non mi faceva salire quanto cazzo sto saltando nell'antico bisogna fermo che ho lanciato una salsiccia facchi ingorsi quanto devo stare in botto quando è bellissimo quando ricarichi e sistone bella sembra tipo della prima guerra nella prima guerra dove do france minchia e anche mi sono mario anche mi sono grato addosso non può capire che cazzo è tutto casato le tutti di un alz è per sparare una nuova arma dove si trova piccettino allora fra qui qui c'è un cosa per sparare dove si trova poi ho messo il punto è qui non c'è piccettino da un messo il punto a figlio figa di grillo comunque feita figa me la sbatterei nelle foto quando quando la guardi nei video tipo non c'è lei dal vivo che la vedi fa schifo porta in culo non può capire la stronza oltre che stronza verbo tra da neanche se di la panni non è fitto seme questa è la famiglia di bolsteres no se dibarca no ho sentito uno stock non è male non ci sono due anni io spero a quella sinistra va perché non è fucking morta una è morta una è morta ma come tu sei puntato quella vai vai come ce ne sono altre fra non ci siamo ci sono ucciso qua sopra ce ne sono altre ci sono un po se non possiamo stare più calmi io non ci sia un'altra però ormai l'ho persa non so più dove ma questa pure non so dove siano l'ho ucciso ecco l'eccolo ecco l'eccolo stiamo piano 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 che è stata tranquilla a tipo pochissima me un gioco mario ma questa cosa è di usare il bar con le alci mario adesso non dovrebbe essere credo cinque c'è neanche neanche i spennati ci sono io quando quando devi ingaggiarli l'engaggia di prenderlo no fermo beh sì è vero era già morta poter si minchia era più morta che viva sta povera alci minchia sono enormi gli altri c'è un bot di gusto a cacciarne di quello ma che bella è bella che con le sue narici mi ha dato una missione l'alci quindi sono anche i nemici attivi quindi vengono attivati attirati dalle vengono attirati a dalle esche non ho capito un cazzo quanta bella mia desertico non ce l'ho un altro territorio adesso c'è ah spon non lo divertivo contro le raggi non sei vicino ma cosa non mi fa niente colpi perforanti si colpi perforanti si però fra viene qua che ti romesco perchè io uso solo quelli praticamente che 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 ha dato fuoco a un la la io sono... no 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 infatti lo stavo guardando anch'io vieni qua che ti romesco fra si arrivo che le alci sono attirati dalle esche questi che sono animali cattivi si si sono cattivi che cazzo dici le alci non mangiano la carne no pu... 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 la un cazzo minchia l'ha shotato il colpo gli hai tirato gli hai tirato un colpo il lupo ho detto che è un calibro a 45 quella è un calibro a 50 no si si l'articolo a 45 no 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 non ci merita no mi dispi che cazzo è un serpente di merda via cazzone di un serpente un negozio io prendo il bar oh aspetta dai ha ammazzato il puma che stava... la stava ammazzando l'ha ammazzata mi ero lo so troppo tardi un puma un po' il bar cambia tutto certo che però puoi tenere troppo le alci andiamo vicino dove sono le alci siamo tipo a 600 metri dalle alci andiamo alle alci no ma tu l'hai finita la storia io io si Mario no no tu no ecco perché tu no sarebbe bellissimo mi ci sono affogato un po' troppo però Mario qua c'è un alce dove 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 ho visto ho deciso minchia c'è voglio tre colpi di barretto Mario cioè sono forti è un alci bianca Mario alci alfa Mario alci alfa guarda guarda le cose rosse sono qui fra però che bella poi che io vorrei una casa in questo gioco e poterle appendere veramente ci sta stiamo su questa collina che non pare ce ne posso tiro un'esca vai qua sotto che belli gli animali che arrivano eh si animali bastardi lo stanno usando non ho detto neanche che non ci siano animali questo è il problema carazzo bum fa un buon lavoro ci aiuta sempre ma che carino lo carizzo anch'io dai perchè questi mi danno animali di me andiamo dove ci sono le alci Mario ma che cazzo così? sei in serio? si 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 qua fra 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 qua alci eh no fermo fermo oh comunque pure la la desertigola eh tre colpi ci mette eh si l'altra fa niente dopo la seguiamo io ma intanto due le abbiamo ammazzate no si si per lo di alci più 4 era bella cross eh io così tranquilla stavo mi stavo paracadutando per per questa balle eeeh sono un deficiente poi guarda dove sono morto c'è qualcuno che rompe il cazzo ah ma ci sono i chiteniti ancora? a quanto pare fra i sono morto nemmo mano fra sei morto come cazzo ci arrivo lì Mario dai fico anche te eh sono caduto non ci posso fare niente come dovevo c'è sulla punta guarda dove cazzo sei sei a novanta ah 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 grazie amico di avermi sa io non mi sono mosso io non mi sono mosso eh non ci posso fare ah 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 io non mi sono mosso dai qua c'è pure un oooh perché piangi? c'è la bunga che piangiva mi stavo parlando ma perché c'era un lupo e adesso lo ammazzo il lupo perché mi sta ma io sono bloccato porco di no no aspetta per libera ok l'abbiamo liberato delle cipene che cosa fai? puttana mi sono caduto addosso comunque questa qua avrà i colpi calibro 50 e non 45 probabilmente probabilmente si è vero madonna che becchi che bello il rumore del gaudio ah qua c'è un diamante facciamo la missione e continuiamo a cacciare no no facciamo la missione scusa ti sono passato davanti c'è sempre una squadra di clienti non è un sacco del modello prova le scorte c'è uno stronzo a terra ti salverò la missione no però c'è una storia è lì nella nella ah fanculo perché ho ancora uno stronzo vieni a prendermi fra non ti vengo a prendere siamo qui c'era un quad però guidare in questo gioco è molto difficile cioè nella realtà è facile però è realistico è realistico esatto c'era un lupo maria qui maria tu l'hai fatta la missione quella dei diamanti che tipo ti fa cagare al bosco che ci sono le streghe poi tipo i cadaveri che vengono tirati si l'hai fatta tu non mi ricordo è orribile fa una paura l'abbiamo fatta ieri qui in cubo c'è una cazzo di alce senza le corde è un alce femmina fra c'è una fucking di alce femmina è un alce femmina le alce femmine non le le corde la maria rampino ma dov'è che mi devo arrampicare? non l'avevo vista io so il rampino ma io no mi sta sul cazzo la tarcia non si può spegnere finchè qua c'è una voragine maria è orribile dove? cerca un rampino porca puttana stavo cadendo laggiù c'è a scendere maria mi sa però come? no non conosco neanche col maria devi buttarti ma sei serio? ma che rumore ha fatto? ci sono gli adeniti fra aspetta che tiro una li ammazziamo fra serpenti fra no era la dinamite fra mario hai fatto il peggiore errore che potevi fare non si mette mai la dinamite nelle caverne quando ci sei dentro comunque beh nei giochi ovvio però nella realtà non bisogna farlo ti sembra la realtà? vabbè però è più ci sono lupi no mangiano si tutto quello che c'è da mangiare carne salmone la carne gesù francesco la finiamo con questa droga mi stare incoglionando ma gli adeniti si nascondono ancora così che ho ammazzato il boss eh ci sono l'elicottero ecco i soldi mario questa che cazzo sei andato te tu è? tutta la vita si che bella la droga come ci stavano i medikit? fra adesso vengono i negozi che vengono ma riusciamo un po' l'elicottero vabbè c'è come cazzo facciamo uscire con un elicottero dai sali guida si quelli ti fanno salire il cristo io ho imparato che ormai salio salio ma io non vedo sopra quindi non so come uscire per me che faccio saltare sto posto di merda voglio ma che cazzo fai? non so come uscire ci sarà un modo se c'è un elicottero in qualche modo sarà entrata pure no ti ho seguito? problema che non si vede una sega ok sono uscito io no no devi venire un elicottero fra ti puoi teletrasportare? no mario si è un negozio così adesso andiamo mi sto esplorando il negozio no no ma andiamoci con l'elicottero appena esci io sto dicendo con la rampina guarda è tipo bellissimo mi sento molto indiana jones perchè dovevo saltare dai ma perchè non mi apre mai sto paracadute di merda fra anch'io però sono morto francese ma ero per cazzo ma perchè ti devi lanciare col paracadute? no sta venendo boomer forse si è venuto boomer un gazzio boomer come fanno chiederti le puzze ma che sono bastarde il suo gioco ci sei? si si vai dove c'è le alci che c'è anche un negozio lì di fianco ma dove hai il negozio? è sotto 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 vai giù scendi perchè sei storto? mi viene il mal di te sta figa sta scendendo Francesco sto caro l'avevo vista nella mini mappa no non c'è più è sparito un po' con te e l'elicottero quanto odio questo panorama sembra proprio brutto a me a lei piace un po' con lo stile si ma mi fa schifo la ragione si anche a me con la droga comunque ci potevamo andare in elicottero però no va questo è quanto le ho queste radio di merda voglio vedere quanto è la pelle dell'alci alfa alci alfa costa 350 che merda non sarebbe più far cry scusa c'è un botto di sordi non so io se lo sei mio comprati armi a casa però io vorrei provare a prendermi quell'arma nuova da salto lo sparavano o il vetto no il bp2 prova lo sparavano anche a me ispira un bot andiamo a caccia con le le armi corpo a corpo aspetta ecco io non ho mai comprato una mitraglietta c'è quella di ford la silenziata la mp5 sd io ho comprato no io non ho comprato niente anche io ho comprato nessuno è solo che ho quella la prima la mp5k non so se tu ce l'hai del club dell'ubisoft club no non ce l'ho è perchè ma non è scarsa cioè rinculo un botto rin che esca l'itia sei cazzo madonna non so se riuscirà mai veramente fatto quelle barrettosi e il sacco di barrett intendo il mbp 50 però più comodo l'altro quello che fa tanto ha preso iniziato cioè io ho messo senza dove che è bruttissimo di specchio stra bello sto fucile un voto ci sono iniziato le mette i quadrati e rotonde dipende dall'armo io così sempre rotondo se in realtà io non so se uscirà prima in gta 6 la playstation 6 appunto ma da più ci sarà mai secondo me da cinque anni che deve uscire si esatto vabbè non cinque anni che deve uscire però di cinque anni da cinque anni crescita appunto 5 ed è un po pa 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 mi prendo la deserticola andiamo andiamo ad alci prenderà desertico ma gli alci non danno tantissimo io adesso 4.000 adesso io 5.000 si aveva 23 mila io fra qua c'è il cerbato della coda bianca ma io voglio arrivare a 7.200 per prendermi il vector sì io non so se prendermi prima lo sparavango al vetto che non è da l'articolo enorme ma neanche così sfida fra me te cosa neanche così tanto qui che c'è qua vicino ci sono cerbetti la coda bianca perché almeno ci metto il mirino solo per certi no che schifo io ancora non ho fatto tutte le missioni io boh non lo so e mario dove dobbiamo andare ma sono pronto ma c'è le alci qua andiamo dalle alci mi piaceva tanto io vado dalle alci la faccura non fuggi più donne a Vecchel aspetta puoi ricaricare e migliora cambiare mi sa che mi compro questo bellissimo guarda qui dove sei comunque il fucile questo qui il bp2 mi piace un po' veramente ma l'hai comprato alla fine si vediamolo fermo zitto c'è un alce ma qua c'è un coso da fare esplodere mario avvicinati a me per favore mi sto avvicinando però se tu vai lontano eh c'è un alce cazzo c'è un due alci no boomer sta fighttando no pezzo di merda di un lupo mi ha ammazzato boomer poi io aderato una barrettata è un lupo bastardo ora un alce è un lupo grazie boomer rialza boomer boomer dove sono le alce bastarde si si sempre 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 una merda francesco ma io ho trovato un gruppo di cerbiatti arrivo a stare calmo non gli ammazzare arrivo nel barrette comunque in questo gioco si è lentissimo dove sono erano qui sono fuggiti però se si trova le spawn dell'agole li ritroviamo erano tre ma non vedo una minchia quindi mi sa che io vado alle alice sai cosa io mi prendo una cosa di quelle che ti fermo fermo che ti fa eccola perché non riesco a prenderlo perché boomer viene da prenderlo si fermeranno prima o poi fra non c'è bisogno è cosa degli animali me lo sono mi sono messi mi sono adappato quello degli animali fermo c'è un puma bastardo volevo rubarci le prese mi sta seguendo ma c'è pieno di animali due alci mario 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 dove 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 punta 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 manco mario desertico il vero ovvio immagino io sono tipo fast and furious qua c'è un'altra qua c'è un'altra perché io vado attraverso di più di più di più di mario alce di merda mi ha tirato mi ha tirato una zucca nota vabbè anche loro si difendono cazzo si difende alla sb di là di là alce 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 ma sbarrettiamole ma ce n'è una prendilo quello già aiutato è già morta ho preso l'alce io sono fucking pieno di alci dov'è fra l'avevo ucciso qui dove cazzo è? eccolo 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 ma che bella io sono pieno di palle di alci perché sei così fatissimi? ehm altre alci aspetta stai fermo se poi le ammazzo per te tanto io poi faccio per il super supremo tieni tra la scena qui dov'è che è l'alce scusa non è una femmina non sono pieno pure io come che cazzo li ammazziamo fare fermo andiamo al negozio di più vicino che si vede qua c'era un negozio c'era anche un pomo l'ho ammazzato io vedo un botto di cerchi da un botto di puntini si pure me eh per quello mi son fatto di ah ecco si mi son fatto di quella roba ah ti sei fatta quella quella bella la droga dopata il negozio madre mera poi mi prendo il vetto ho soldi per il vetto no intanto mi prendo i proiettili allora pistole poi i fucili io potrei prendermelo dopo però me lo prendo dopo calibro 5 che carino questo cane ciao cane io mi sa che mi ridoglio come stai cacciando col bar Mario? no adesso non più cosa sto aiutando? adesso non sto cacciando perchè non trovo la selvaggina vabbè anch'io però nel senso quando spari cosa spari tu? o la desert eagle o il bar si è il disattivo solo quando c'è lei davanti usa il bar se no non dai la possibilità alla preda di fuggire ho visto un alce è meglio non dare la possibilità alla preda di fuggire ma sperci non detto giusto se si mi serve non le do la speranza di fuggire ci sono altre tante io prendo quella destra ma perché non vogliono porco dio morta una non c'era morto i due no in sto gioco no c'è c'è quello piccolo c'è una ferita ho detto boomer di prenderla mi servono colpi catturata bambino 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 qui ci sono solo alci dopo un po' le alci però a me divertono le alci mesi mi piacciono perchè non sono facili da prendere no 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 certo c'è un'altra di qua ce n'erano ecco 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 io le sto ammazzano tutte inerciata bellissima io ho finito i colpi del bar no io ho ancora vento cioè la sacca più grande quella apposta per le munizioni io provo a farlo voglio vedere se c'è eh io devo comprarla ah c'è c'è il lancio che era nati comunque due alci mario che stanno facendo sono lì giù 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 ho visto ho visto ma è gesù questa l'abbiamo sparato in otto un'altra oh mi carica minchia mi stava caricando cazzo volete no no sono loro che hanno sparato a me sti stronzi io sono pieno io no cioè io non lo so c'è un puma c'è un puma sei uscito di testa quello è un camion della setta no no ecco ecco probabilmente sono le le aquile ah c'è dove 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 erano prima vai vai fermo fermo appunto la vai anzi ho stato ho tirato due colpi in testa ho visto il tuo che arrivano poi è arrivato il mio verino sarebbe esplosa ah io sono pieno che cazzo una traccia ce ne sono altre due mario ah ma io sono pieno tanto io la donna tu l'uomo mario sei pronto? io sì io prendo quella da destra tanto non la colpi eh il maschio ah no sono tutte due donne io con le giri no ma scappata chica però lo ferita però lo ferita vabbè io chiamo un animale eh anche sono pieno ho chiamato un animale cattivo diciamo ecco desertico bam io ho sei colpi e basso adesso chiamo un altro animale cattivo poi ci sono molti fumo dopo andiamo al negozio oh ma ma non è anche stato investito no ma adesso è è rovinata che palle si ci bastardi in strada no non rovinata vediamo un altro si si è bella è rovinata si ma questo è quello di tutti con un colpo ma questo non è rovinata io devo andare a prendere dei colpi si anch'io quindi non aspetta ma che ho lancio io le salsicce vieni qui vieni qui vieni qui le salsicce io le chiamo salsicce poi c'è un altro ma si si è nelle armi lassalo mangiare fermo voglio prendere le nancy con un secondario mi sembra tipo le pistole qua ooooh non scappare come bastardo boomer corri si quei coglioni che gli sparano figli di puttano ma fatevi cazzi vostri vaffanculo si ammazza sti coglioni anch'io li ammazzo mi avete fatto scappare mi avete fatto scappare la preda figli di puttano vaffanculo no vaffanculo ora la preda non scappa più vaffanculo hai qualcosa da dire tu curatore sa di no ah si fanno i cazzi loro non dicono niente ci lascia di stare perché li ammazzi se non ti fanno niente perché mi sparano ma io si scrive una bella paurella al mio hai paura piccolina indovina chi ha finito la pazienza io basta mi vedrò coltato basta via da coltano sicuro te ah ah ci possiamo in negozio eh ma non ho più vincere no non ha senso per una freccia per vedere l'esplodere della spara però quelli sono cervi quelle sono alci invece dai andiamo in un negozio fra qua a sinistra c'è una cervi però non l'ha vista possiamo andarci benissimo a piedi Mario è vicinissimo qua fra c'è un di cervi è a 300 metri andiamo a 300 metri ma dove guarda ma sul punto bisogna seguire la strada ok verso nord ecco che bello che è cacciare ma questa la quanto sta durando minchia è già un'ora e mezzo è brutto dei colpi pesanti è che definisci subito cioè il massimo è tipo 35 40 b a parte se uno non si compra la borsa però io l'ho comprata la borsa e ce l'ho al massimo ma non si basta eh io no ma perchè più che altro quando finisce la storia gli deniti non ci sono più e quindi uno non è che le può fare le sfide senza i deniti da ammazzare si è vero ammazzi civili si sarebbe una modalità in cui si può fare riattivi tutti i vanposti il burro è che in questo fracca non te li segni i vanposti io non so se li ha finiti tutti ma credo li si no io non tutti no al parkry al parkry quattro c'erano i punti fra ma hai visto che ti puoi vestire da pagan min si lo so ma non mi ha fatto un cazzo di vestirmi da pagan min negro sono negro ma mica ma vi pagan min francese si ma non voglio essere pagan min è bello pagan min ma non essendolo essendolo è uguale non è uguale in realtà ma ha senso essendolo cazzo mi mancano dieci cinque dollari del cazzo non ci credo però è bellissimo vestirsi da joseph o da john bellissimo baiac di assasin creed comunque non voglio il fucking clown anzi no la zucca è più inquietante ma tanto non lo vedi tu no io prendo il barret quello bello no non serve un cazzo però è bellissimo bello è divertente io non so se prenderemo il vector o il lanciavang si c'è un'arma che spara le vanghe è tamarrissima intanto è caricato è aumentata per forza sul vector marino reflex o redot il dot io so il barret quello che si apre presente tutto ma stacca no no diceva mario quello che spara tipo in sequenza se faccio pam 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 spara pam 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 oh è ls a 50 ah è quello che uso anch'io si usa volante prima anche se la carabina a 308 è bellissima è bella ma ma non è un barret diverso cioè no no il barret si fonda molto di più pure la carabina all flame è bella io c'ho romp no a me come arma mi piace un sacco il bp ma ce l'ho comprata si guarda questo quel cazzo sei fra qua bella io il vector ah ma è da rafficare 3 è figata far affigare 3 si ah no mi risparmi di prenderlo mi fa cagare già no però fra è fortissima ma non hai neanche provato contro le persone che cazzo ne sai non sono sicuro in tutti i giochi il vector è forte è bruttissimo fa schifo ma cosa dice a me piace mi fa schifo ah hai detto fa schifo infatti cosa ho detto non ha stile ma che qua c'è un puma e e un cervo ah no fra si può anche mettere il colpo normale no no non è per forza colpo 3 qui dove sono io c'è un puma e un cervo qua madonna fra i colpi perforanti su quest'arma squagli tutto ma come fai a mettere i colpi no ti ho dato le munizioni dai ti ho dato le munizioni fra non è che me le vuoi restituire no perchè non mi hai dato un cazzo mario non ne ho non siete reddati erodate ma con tutte non mi hai dato mario l'ho già fatto io una volta a terra non è che tiene da tante no che non dovete restituisco anche ma se un po' giovane l'hai perse e poi c'è il di meno di quanto credi ma i proiettili perforanti che cazzo cambia fanno più danno si si può giocare anche no solo in arcade nella storia non spoiler che ne sei ti ricordi anche con il raggio io lo spasso lo spasso anche io ce l'ho però quello con le fiamme io non sono t'amaro come te sono verde militare c'è una qualcosa lì si 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 ero già morto con i cicchini proletti che abbiamo sparato allo stesso momento dai ho finito i colpi perforanti per darlo a te ma io non ho venduto la roba ma non ci credo un axe non ho venduto la roba va a far culo te l'alge l'ho accettato io beh ma io devo andare a vendere ok bella è un ghiottone di merda andiamo all'empario c'era un ghiottone del cazzo quando prendo le armi metto sempre regatore aumentato beh certo ma comunque danno un botto eh 2,25 danno mi pare si però non ce l'abbiamo aumentato è appunto 2,25 2,25 quindi fa 4,50 ogni ogni puma è appunto di a te 2,25 è appunto di a farlo che è appunto in una strada l'armi che è passato è appunto di che sono appunto di che è appunto di che è appunto di che Io ce li ho quasi tutti tratte Ma io boh, quelli che mi servono Io vorrei aumentare la borsa ma non si può più di così Ma dov'è che si può aumentare la borsa? Sempre nei tratti La mia mazzola di caccia perché queste alze di mer Eh, devi farle una volta Dove ci sono le mani Si sono i progetti Si, le ho fatte tutti Si, si, le ho fatte tutti Le più utili secondo me sono quelle all'inizio Si Quella delle doppie pelli da un... Dove che hai messo il segnalino tu? Io andrò all'altro punto Qua mi sta rompendo il cazzo di caccia realici Tanto che c'è alcuna zona di caccia bella Qua c'è il grizzly Ho messo io il segno c'è il grizzly Ma anche qua c'è il grizzly Sono Ray Ray alla pianta Dove andiamo adesso? Spera Beh andiamo lì Andiamo lì che c'è il grizzly Perché siamo già andati da una parte Se volevo andare io dove c'erano anche le grizzly No io mi sto alterando Aspetta un attimo Perché ti stai alterando? Non Alla Mario Io mi voglio Mario Io dopo mi compro l'MG42 Qual è? Vai a vedere Ma anche se ce n'è E sulle speciali C'è sul timbrino lì Ho capito forse Voglio prendere Io voglio prendere tutte le armi adesso basta Tutte le prendo a caso Io ti giuro le faccio Le prendo tutte Faccio dalla Tu le prendi tutte le armi? No Io voglio platinarlo Lo voglio prendere tutte Perché le pistole sono tante però Ma non importa andiamo Io ho due bistecche Io uso la desert eagle C'è un alce a un cerbiato C'era un cerbiato della cosa bianca mi sa No Cervo è buono Se vieni qui c'è un cervo Però te devi muovere Come sei? Non so dove tu sia C'è Mario si vede nella mappa Dio porco Ma sei nel culo Vai verso i grizzly E ci sono io E ci sono io Qui per terra C'è un altro C'è un cervo C'è un cervo Dalla cosa bianca pure No alfa Un'altra maria Dove 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 Fuggi però Boomer Ma non sono riuscito Lasciammi andare La fuggi Vabbè Sì Dove non hai chiesto Comunque Le spazzo è devastante Hai un tiro a me salsicce E' un'altra prima Oppure viceversa Dalla questa c'è Non ci mettiamo una cosa Ma non ci aspettiamo Così prima tu Quindi Dai tiro la sorosina Ho tirato Non so nero Nel cazzo Ho sentito un grong grong Era questo No è un grizzly Ce l'ha con me Non ce l'ha più con nessuno Tira un altro Un orso nero di merda Muori Schifoso Tira l'ultimo Che bello che è il rizzo Nolso nero Ma la finiamo Ah ma dico ma che cazzo Oh Urso di merda Mi sto incazzando Sono ferito Sono caduto in un burrone No non è sparito l'ho visto Ah bastardo Ecco che fa Mi pregio È feritissimo Eh lo so è morto praticamente Questa vita c'è il Gesù Di merda È sempre morirà tranquillo Solo che lo fa soffrendo Poverino Oh Bravo Ha finito le salsicce tu? Sì Facciamo qui tanto Un cambio Ecco non un altro orso nero del cazzo Probabilmente degli animali cattivi Che non ci danno le salsicce Iserticolo è un cannone Anche gli americani le chiamano hand cannon Appunto perché è un cannone da mano sono rarissime all'ultima carne mi faccio io c'è chiaro abbiamo lasciato arrivare proprio alla carne mi ha tirato una pala mi ha tirato le palle mi sto portando andiamo a cerchi al tipo del aspetta che mi consuma la droga quella per vedere gli animali animali di la servo c'è anche un animale cattivo cervo alfa perfetto arrivo che sta lì dove c'è vieni qua stronzo sono più veloce io no si è più veloce a me fa niente qua c'è ci pensa boomer lui fa casino mario scappato verino sta soffrendo fatte a mattare non so però mi dispiace io ricordo io sono morto cazzo scopritemi vado alla carica ma c'è un negozio io vedo subito adesso così compro proiettori andando alla recerca di altri ma ci sono altri animali uccello di merda un è preso non te lo vengono tre ma ora qui c'è una piuma c'è l'ha preso boomer mi trovo più animali ma che qui non mi interessa sempre qualcosa mi cercherò di animali ho perso non mi divertivano non è vero fatti tutto di droga quello che vede gli animali no grazie del quad lo dobbiamo fare uno lo passo uno alla volta se no non ha senso ah io l'ho finita infatti allora lo faccio vai un animale di qua sono di qua stanno scappando non stanno scappando si sono alzati non è morto giù vai perché sta scappando cervo normale ecco ci sono troppo abbastanza c'è un cane qua aspetta c'è anche un serpente di merda ho preso un altro servo qui c'è un orso mario devi stare con me mario in grigli sta arrivando grigli qui 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 facciamo aiutare deve essere il grigli ma hai preso mi piace mi sono fatta di dopamina adesso vado mi sono fattissimo è bellissimo dove sarebbe stanno non vedo più animale e qua c'è un animale c'è un animale l'ha visto ma l'uccello di merda ma che cazzo mi spari io ho le osbica mi hanno sparato i civili ecco ma è finito il cazzo di attaccia allora prendo io qua c'è un animale io poi li ho finiti e non ne ho più facciamo che farne a meno cos'era? c'era un tacchino di merda oh là c'è un animale grosso ma che cazzo? ma è un'evenita del cazzo che non c'è più no ah ah dovevi ucciderlo? un animale grosso del cazzo cioè un animale grosso sto cazzo ma non ci sono animali ecco un animale animale quello di merda c'è più persone che animali qua non si è più importante non vedo che il seno nessuno mi fa già nessuno mi fa già no senti se la testa massa puntata di una macchina capobranco che buscio di culo tira un'altra per la finita dietro fra i prossimo animale lo voglio ammazzare cazzo voi vattene via guarda il cazzo non va più chiaro non ti sei un cogione dai tironesca prenderà palato fermo non ucciderlo subito lascia andare all'esca eccolo eh ti dico lascia andare all'esca e ha sparato così odio troncio questo è il corpo perché i civili non si fanno lì cazzi sua mario una mattina anzi devo caricare secondo me l'ultima lascia mandare la carne sembra che non ci siamo l'unico al massimo numero no questo che non la passa liscia la macchina stronzo dolore dolore ci ha fatto pure scappare l'animale non c'è più aspetta c'è un altro che cazzo e non lo so è un cervo alfa preso no è un carico del cazzo oh un caso delle densgate era delle densgate esatto ci sono le cose di munizione fuck le ho tirato un calcio e l'esploso no io ho sparato io si è cagato addosso madonna le ho tirato un calcio è bello che poi esploso in ritardo perché non li tolgono almeno sti cadavano di merda in questo posto di merda ci sono dei negozi oh no cos'è che c'è ambolo che cazzo è ambolo c'è un uccello ho ucciso un'aquila un'aquila fra qua ci sono ci sono dei pesci cazzutissimi se dopo ci andiamo guadagniamo c'è un animale rosso e un serpente mi ha avvenenato qui c'è l'aquila lì c'è una puzzola ma non è un attacchino di merda un'altra puzzola ma le puzzole avvelenano comunque sono immortali cioè un pompo in faccia e non muoiono esatto due colpi di video puzzola alfa veniamo a pescare che dicevi che c'era eh ma c'è il punto però andiamo a prima non negassi perché mi ci ricifiniamo eh sì scusa ci rifociniamo che in Giappone che cazzo è beh posso a teletrasportare ma che pesce è frenissimo teletrasportiamo no non c'è non ci sono teletrasportiamo ma c'è la prigione fra no non è vero mi teletrasporto no perché sì che bello sto gioco minchi che bello mi piace troppo non è male che non l'ho venduto che cazzo stai mangiando il mio pranzo che cosa pasta ora sei più chiaro con pomodoro io verso le teletra un pochino vado è un'oretta neanche di meno che cosa vai a fare devo allenarmi ma devi allenarmi ma perché esplode sempre tutto siamo tutti delle benedizioni lo so allora per il puzzola non cazzo per il puzzola fa da 400 oh si da a piume danno 100 a piuma l'orso nero guarda che comunque solo mille di orso nero dove è allora signore danno andiamo in elicottero al punto si aspetta che mi compro lo sparavang ma ne esplodono secondo te le vanghe? non lo so mi compro anche la mazza d'oro giusto per far un po' più il tamar ma adesso compro lo sparavang con l'ultare i miei soldi si che cosa lo metto? mettiamolo in passadino Mario muovi? stavo comprando lo fucking sparavang il francello è bellissimo cazzo sono incazzati con me forse ho toccato qualcuno con i miei proiettili sono qui attaccati con il raddino non si può arrabbiare non siamo sui che si può arrabbiare comunque si però che andiamo cogliene sto andando spiegarlo comunque il modo in cui spara è stra-realistico si l'elicotter fa veramente così se lo sono cagati questa live la gente nessuno si è raffragata lo so perché di solito chi è che se la caga c'è quello di fortuna c'è più gente c'è un bastardo c'era un bastardo io vorrei andare a pescare oh ma sono i cecchini o a schifi e magari scusa però c'è la venti per il fiderla non posso a salire osservato tu sei scello si si chiama ambloplites rupestris si saccheggia sempre si ho visto ha un nome stranissimo però adesso ti sparerò una vanga spara proprio vanga ma le vanghe cosa fanno spara proprio le vanghe si si spara proprio le vanghe io ho lanciato adesso spero non avenga questo civile così per vedere cosa accade poi le vanghe però non si possono riparare civile ma poi devi ricomprare ma tipo ammazza ma di non fare il tuo coglione tutto questo vango no si si possono riprendere i proiettili i vanghe ma adesso fessimo che che cazzo serve cioè sai che c'è il liquore che ti ubriache ma ammazza con un colpo la vanga si si sciatta ma devi tirarlo il filo non è che devi lasciarlo lì che tenzola devi riavvolgere lentamente così sembra che sia un brusciolino questa è la pesca a mosca ritiralo più lontano e poi avvolgi lentamente fino a che non ti c'è gancio si sta ganciando qualcosa ma io non puoi tenerlo fermo di non arrivare nessuno lanciano a largo e tieni premuto fra le due fra lo so che si fa è fermo francesco con l'amo non aggancia un cazzo c'è a raggi nella live c'è a raggi a raggi a raggi a raggi vieni online ti vediamo su porto eh se vieni su questo questo è pesca difficile figa se è difficile figa se è difficile non mi ha boccato però non ti ha boccato anche a me ha boccato un'ora che mi ha boccato però che è durissimo ho notato a favore di spezzare la clenze dai vieni vieni oh ha preso vediamo com'è ma è una merda è tipo un pesce solo pesce persico non so magari tra 10-20 minuti perfetto va bene a raggi ma tu mica te ne devi andare ad allenarti a re 3 appunto se ci vado per 10-20 cioè finisco in 15 minuti 20 minuti no non è vero ci metto di più quindi no vabbè aspetterò posso farlo anche dopo tanto sono a casa non è che ma è tipo impossibile sto fucking pesce non mi devi spezzare a pescare io a pescare sono una pippa ho preso un lupo io l'ho visto 8 miles non è vero ne hai rivisto o l'hai visto per la prima volta? l'ho rivisto non lo vedo era un botto pure io non lo vedo da un sacco dai pesce di merda dai vieni qua stronzetto c'è Bruno Pio Bongo fai schifo Bruno ammazzati non so chi sia neanche io ma si deve solo ammazzare ma poverino è nella tua live c'è un tuo fan mi ha scritto fai schifo allora esci ma poverino non insultarlo non ha niente da fare è un ragazzo triste no ma ti insulti chi dà di soddisfazione no io mi dico la gente che viene a insultarti nella è uno sfigato sì sì ma quello l'avevo capito però nel senso non ha senso un tuo fan che mi ha detto vabbè se vuoi farò leggere i commenti in la live perché non ho neanche voglia di sinceramente non mi importa più di tanto ecco che mi sento a malta adesso che cazzo fai mi è fuggito il pesce mi sta sul cazzo questo pesce adesso come fai piccolino che ti ho messo in time out povero pizzo ma ne va a frega te neanche è un bambino del cazzo ma si ma secondo me non so io non mi sento a malta basta Bruno Pio Bongo però è bellissimo come nome tanto gli dà quanto ti dà questo pesce di merda boh ho venduto tutto ah è bello mi sa che mi prendo la beretta si si ma la prendo lo sparavani perché è una cosa inutile ma va però è bellissimo la beretta invece ci sta su sto gioco però la silenzio mi sa la beretta ma sempre silenzio ma tu non ti sei ancora presa la la 1911 gold a eerie ce le ho tutte le 1911 ma perché non le usi ma la beretta ma la beretta è bellissima bellissima ci ho messo anche il reddotto no mi sa che tolgo aiuta skylar al negozio di esche di dylan nella regione di wildtail mountain allora skylar di lana white qual è la regione white all'andare a vettel mountains Minchia nera e strabella la beretta Figato Voglio ormai in montagna e ti do 1500 Dylan alla pescheria Per sbloccare la nuova canalla pesca Dov'è la canalla pesca? La canalla di droga Io voglio fare un avamposto Trova lì gli avamposti Eh questo è il problema Ma dove sono le Le fucking Forse qua c'è un avamposto C'è una missione principale ma che cazzo Ah si ma è l'ultima Ma c'è un cane Ma c'è un cane Ma sei bello Voglio farlo Voglio no no Voglio vedere se un animale muore Se le tiro una vanga in testa Sì Mario facciamole No quanti soldi si danno Non lo so come si fa a vedere Zipkupka si chiama Zipkupka Posso spostarci vicino un attimo Tanto ci sono anche i cerbiati della foto bianca Ma dov'è? Mettere il È forse C'era una visione di forse Ho messo il segnalino Allora ci andiamo No L'ha finita la candela? No L'ha finita Tu? Anche io a mia dura un botto Dura 40 ore fra È tanto Io non la tengo accesa sempre Io quando vedo in camera l'accendo No io No Perché io non ho l'accendino Non sei pieno che l'accendino Sono tutti senza gals Comunque qua vicino forse c'è un avamposto Ma io secondo te Dove metto il punto? Guarda Ah questo? Questo sembrerebbe un avamposto E dove ho messo il punto Lo sa A me sembrerebbe un avamposto No Comunque secondo me va liberato La tenendo a Zipkupka Zipkupka Vediamo che missione al massimo La abbandoniamo Io voglio ammazzare gli deliti Per quello voglio fare Io voglio attivare Aspetta che io devo guardare Le sfede No vabbè Io voglio prendere Voglio sparare con qualcuno Con questa Voglio sparare a qualcuno Con la mia meravigliosa Vabbè Ma anche la mia mazza In alluminio d'oro Bellissimo Ma che cazzo No Mica che figata Povero porco L'hai violentato E' esploso Ma è bellissimo Il lanciapoletto Lo voglio Io dove mi metto Mi rimetto qualcosa Alieno Per Per andare in giro E cazzo Ti ricordi Tant'è bello Far volare gli orsi Sì Si fa così Si ma dove cazzo si entra Ma le vanghe esplodono No Era un ciclotto Sì Sai che non è servito un cazzo Perché bisogna riprendere Ah no Ah ma io l'ho già fatta Questo Io no Però sto pitto Il tipo so che Siamo schiavi Non governo Ah non mica questo Non voglio che Non si può Ma Bruno Pio Pongo Chi cazzo sei Cioè proprio mi interessa Saperlo Ah no Vabbè non ti preoccupare Nessun rancore Ma li dobbiamo andare con me Mi sembra uno di quelli Degli IP Sì 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 Mario Sali Ci sei Sì No Sì No Sì No T'ammazzo L'ammazzo sto qua Veramente Mario Sali Sono sopra Non sei sopra Sono di fianco a te E' deficiente No Oh mi sa che devo salire di fianco Io Sì 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 Attenzione Da quello che sta succedendo Veramente Guarda che bello il boomer che corre Guarda che mi sa che va dove volevo andare io Bevelo tutto Bevelo tutto Bevelo Bevelo tutto No Non va Mi sono fatto tipo dieci bottiglie di liquore Sono un brachissimo Come fai a farlo? Devi andare sui strumenti C'è il liquore E tu lo crei Amici Siamo qui riuniti oggi Per ammazzare la gente Sì Forse ho capito chi sei Nabovosti cittadina Non è che è Chi sei Edoardo Massimo Ma perciò non è un brachio Ma è bellissimo Bevelo tutto Sì secondo me sei Edoardo Massimo Arrae ci chiede di essere invitato In the party Ma è aperto il party Può entrare? No Allora entra Bevelo tutto Bevelo tutto Dopo ci brachiamo con i porci E tipo Io sono Non li guidiamo Ah ok però Bevelo tutto Bevelo tutto Ah ma io l'ho già fatta Ci saremmo che passo Ah mi sto mettendo una croppa Dobbiamo mostrare di te È la cosa migliore Adesso faccio squadra Faccio squadra PIO L'ho tirato una fucking fanga Ehi Dobbiamo mostrare tutti per l'uomo Ah fuck No Ah no Ciao ragazzi Dobbiamo anche farla Un test step Come dei coglioni Invece noi Ma basta fare spogliere tutto No non ti banno C'è chi mi sta succedendo Ma ci sono Ci sono i porci Che No Le vedo ancora qualcuno Venghi porco Che lo scrive nel chat Quello della live Non l'ho capito Lo devo bannare? No no Ok Non mi dà fastidio Se non è una ma Cioè Comunque se non è Che cosa che conosce Guarda che devo avere Non più triste Perché non c'è Quando c'è Quando c'è Un penzitare Ma esatto Sì ma fa niente Stigatelli del cazzo Ma potete venire Non mi interessa Ma è un poverino Se fosse per me L'avrei già bannato Ma io no Invece Dove lasciare fare Però dobbiamo liberare L'allevamento Non so Arrivano a posta Eh Dalle stronzze che arriveranno Arrivano Mi uso solo la beretta silenziala Perché mi piace un boc Sì che bella Fuck le mucche Non ammazzare le mucche Ah come non le mucche Raga ma Delle uccidare su delle cose Eh Dopo mi devi fare delle 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 uccidazioni su delle cose Di fortuna Non ho capito Che azzerla lì Niente Eh Delle lucidazioni Come Cioè c'è qualcosa di acceso In camera tua Allora bene Chiedi a Edo Stai acceso al computer Prima di accenderla Allora ci puoi ripetere Con una voce un po' più alta Perché ci sono Gli adeniti Che mi cagano il cazzo Ma cos'è la nuova Tipo di Di costruzione Cioè tipo Costruzione veloce Come si chiama Costruttore veloce Cos'è? È tipo Il caso delle Me la micchiata Cioè cosa cambia dagli altri Raggi cambia Quando deve costruire Io non lo so Ma non è più comodo Tipo Sarebbe in teoria Più comodo Ma Io voglio provarlo No io voglio No le buche mi attaccano Ma cosa cambia? La situazione precedente No hanno ammazzato Boomer Oh Chi è il nego Bastardo Figli di puttana Le mucche? Probabile Ah ti mette Ma che che ci dice? Ah ti mette Automatico materiale Io non ammazzo Boomer Ma magari ti è sbaglio Non è che devi averlo fatto per forza No no Boomer Boomer Droga Fred Devi andare dal Da zio di scarbo Sai cosa faremo noi? Li colpiti Non sono grato Dai I poveri animali Che sono morti Qui hanno pagato a caro Bene Non so A che gioco Stai giocando Mmm 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 Oh di merda È a 700 metri Ho tirato una palla in culo Ma la povera mucca Basta Ma cosa scherzo D'altro con le live Hai visto il raggio quanto è bello il mio spara vang? Ma ma è sì la mano Alma tu far cry non va più No Ma io ti ho spara una vang a quella mucca Questo qua mi ha chagato il cazzo Aspetta Aspetta che la spara Che cazzo ho fatto a non morire? Sta zocco Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ma avete visto quello che ho scritto in live? Sì adesso Sì Ho appena visto Hai visto? Sì Guarda io non lo faccio Non lo faccio Conosciamo No No Magari ha fatto un account figure Che per forza Tutto Grazie a me Nella volta Lai va a dire Insultarvi C'è Davvero Già è tanto che ha visto la tua live Io non è una persona nuova Sì Vedo come Questo qua Vedo come hai 400 iscritti Pingo Pongo Ma sono immortali Ste zoccole di merda Arriva ancora Basta Bello forco è Sì Ma tu non ce l'hai più No ce l'ho L'ho installato o ce l'hai installato ancora No ce l'ho installato Possiamo fare qualche mappa arcade insieme C'è magari qualche mappa bella No che sbattu Anche me sto sul cazzo Perché non puoi avere le tue armi Però se facessimo una mappa Tipo la costruiamo noi No Vabbè Eh poi è lunga Poi non ce l'ho di andare a mettere il disco Vado for cercare Vado proprio bene Ma secondo me È uno che conosciamo che si fa Un secondo Ok Ma non pensateci Se state facendo proprio quello che vuole lui Ma no ma sai cosa cazzo vuoi Sai cosa cazzo me ne freghi Qualcoglio non mi fa salire Di dargli la soddisfazione Niente Secondo me Quanto cazzo profondo sto qui Ma secondo me è Sid Con un secondo canto Beh io non so se si fa veramente bene Per non saperne leggere e scrivere Se Sid mi fa ridere e basta Ma non è Sid Piazza Piazza Ah no Questo qua fra è difficilissimo Non mi assenta home out per 300 secondi Non capisco Facciamo la stealth Questo bisogna fare la stealth Allora Eh allora stai Stai passo e fammi venire Fammi venire insieme Amario sono lontano da te Non è che devi farla tu la missione Facciamolo insieme Non poi devo andare a mangiare Ah ancora Ancora Raggi sono alle tre Non ho mangiato all'uno Raggi Sì ma sei tu a normale che mangi alle quattro È inutile che continui con sta storia Sei tu quello che non è normale E me voglio andare al Mac Al Mac allora si va anche alle 5 di pomeriggio Appunto A casa Ti pare alle 5 di pomeriggio A casa Non è più azzato Fra Tu vai in quello qua Nella miniera a sinistra Ma si ammazza lo stronzo lì Aspetta faccio io Ma qua c'è il cecchino Io non ho Ancora ma mica te lo vendevi far Cry 5 Eh dovevo ma meno male non sono riuscito Ora me ne sarei pentito Perché? Cosa hanno aggiunto di nuovo? Perché è bellissimo Armi Armi tutto Ah vabbè Ho già qualcosa di impressione Proiettile vanca Merda 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 Ne manca solo uno Poi dobbiamo fuggire Sì ma sta arrivando uno stronzo qui da me Io lo devo ammazzare con la silenziata Tanto Che bello si fa scegliere i colli alla gente La prima porta che ho aperto fortemente è stato le due di qui stanotte Quando sono arrivato Per farne missione Che avevo voglia Quando boomerang c'era uno Nooo Mi ha ucciso Io l'avevo da ammazzare La fa qui Però tu copermi Capermi Però non so se Ora dobbiamo fuggire Però tipo l'ultimo accesso No dobbiamo impedire alla gente di nescare le bombe Però Devo rianimare boomer Per i bambini Che boomer Ah alcano Però stanno disinnescando una bomba Sì Ma deve impedire che le disinnescono Eh li sto ammazzando tutti Più impedire di così Io sono sopra Non lo faccio a sapere quali stanno disinnescando Ve lo dici Minchia le ho sparato una vanga Tipo saltate Ma bellissimo sparare le vanga Perché saltano Sparare le vanga Le vanga hanno messo uno sparavango Ah Molto Sì Stanno disinnescando una bomba Ma cosa è che è esploso Il tuo attacco Fra stanno disinnescando la bomba là sopra E ho capito c'è il fuoco qua Io non posso arrivare Faccio io faccio io faccio Non lo stai facendo tu Eh ho ammazzato un uomo mario Sì però intanto devi pensare disinnescare la bomba Perché se non la disinneschi salta tu Cioè Dobbiamo rifarla Dove essere disinnescata Dove essere innescata Ma c'è un elicottero No 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 Non sei morto Io l'ho fatta da solo questa missione A casa più impessibile Ok non c'è più Ma è Ok l'elicottero è morto Da un bar C'è un negro dietro Oh cazzo Che cazzo fai Che cazzo fai Quando ti disinnescano No 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 Mi mancava ammazzare No fra ma è buggatissimo Questa vanga Affagatissima perché si partono Ma partono in ritardo Ma scusa Così spodiamo anche noi cazzo Vai bello Come va No fuck No no Cosa 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 Mi spara mi spara Non mi spara più No 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 Boomer non me la puoi uccidere Bastardo Io questa missione la dovevo fare tipo quattro volte Non abbiamo tanto tempo No Stava disinnescando Burkini Ma così spodiamo anche noi no 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 Fuggi No 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 fuggiamo fuggì 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 e ricorda che è un posto sicuro raggiungi il posto sicuro tra devi solamente raggiungere qui non è che non devi ammazzarli deteniti di notte per il bagnino è un ariano bastardo bruttissimo di un cazzo di eroe americano la strategia dei globalisti è rovinata abbiamo vinto la guerra per le nostre mesi i demoni sono stati respetti bravo boomer e le strisce dei veri guerrieri d'america ecco cosa siamo ecco quello che facciamo c'è ancora il live si si ma quello stavo l'ho sparato io ho visto ho verito lì volevo sparare il bar così le palle siamo a fall sand aspetta volevo andare a vedere se questo qui era un io voglio guidare una io voglio rompere una distruzione ma un posto ah ma era questo quello che pensavo fosse un posto quindi era un rapporto veramente ah più o meno andiamo al fall sand che mi devo rifacellare no io voglio andare in questo laghetto qui che non ho sbloccato un cazzo qua tutto qui non c'è niente vedi io voglio ammazzare dei niti cazzo ma rifacciamo una mappa no perché anche non decidi tu che cazzo usare è vero io vado qui dove che vai lì sopra anche io piatto ricco mici ficco ok quanto sono belle la diciamo la superpoterla superpotenza quanto è bella è vero che hai ucciso ma il diamante lo usiamo no quando ho finito quando finito il caso è finita la storia mi continuo a mettere la superpotenza andavo in giro ad ammazzare le macchine cioè aveva i pugni e le loro esplodevano bellissima un botto ah proprio di lattuga la lattuga è quella che serve meno perché è pieno cioè cazzo quella che serve più è quella viola io sono già pieno anch'io eh ma finiamo di spararmi tu sei mai mai provato ad andare a ai limiti della mappa? si ma non mi ricordo che cazzo succede forse muori no ti dice torna dentro a morirai io sono andato dove c'era scritta yes anch'io perché volevo vedere com'era eh anch'io tu non stai usando il rampino no cazzo mi ha tolto il rampino quando sto figlio di bruttello la mira che ha quest'uomo c'è qualcosa di emozionante ah si liquore bevilo tutto devo andare più in alto e poi voglio lanciare una salsiccia qua è sprecata no arriverà qualcuno no o qualcosa quanto a me non mi fa salire devi premere tante volte x sono un fucking devi fare dei pochi veloce tipo come se fossi su gta no quanto è bello questo prefra figa più veloce di così mi fa mi fa cadere mi faccio pure male ci sono le fucking raddure bellissimo infatti non so cosa ha fatto sta video però è bellissimo ah no vorrei delimitare la mappa fuck ma ce lo sto facendo ma che cazzo è ma che figata no ma è strabello ciao francè Mario ho individuato appena adesso due degli avamposti eh ora sappiamo dove sono gli avamposti no non lo sappiamo è il fumo degli avamposti ma sì sei serio eh sì ma ho già fatto qualche sì quindi qui ce n'è uno qui dove dove aspetta non capisco sarebbe dopo il pompe il problema è che il pompe c'è ma la prigione del campo cosa no il ponte l'oro ho capito dov'è è qui ecco no qui no è qui però io l'ho chiamato lì lì ce n'è qualcuno mi trovo a cerchierare che se faccio una chiamata qua quanti soldi nessuno non te lo dici se c'è qui non ho fatto messo se cazzo ha fatto che cercare tutto questo quanto quello io lancio una del salsiccia ti dirò che non ci sono animale invece no no aspetta fammi tirare la vanga ormai ti dà la roba di violenza che mi fai male proprio capovranco c'è le salsicce ho detto te ho detto te ho detto te ho detto te ho detto non li sparano sono solo lupi qua l'orso non l'ammazzo secondo me la vanga cazzo ma l'hai detto eh che non ho fermo e non li sparano ma ti sento fermo e non li sparano scappava no no aspetta devo dire un'altra guarda che questo qua arriva lontanissimo no no lupo no no lupo no è vero lupo ho un'altra salsiccia il tiro un tempo allo stare qui ecco l'orso non lo sparare io mi tengo pronto però fermo e fermo ok puoi spararlo l'ho preso con la vanga glielo hai buttato dal culo è fuori dai limiti non le prendi per distorso di merda ti ho dato le munizioni ma fan con fan niente che corse che abbiamo fatto mi culo gliela tirata è morta e poi io vado con anche ero finito quindi vado con la salare lì dove c'è dove hai messo il puntino blu parada ta ta no non ci arrivi vabbè andiamo al più vicino possibile ci schianta in sopra un albero morta angurelli data 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 mi sono schiantato sopra un albero infatti il tuo lanciapale è bellissimo cazzo ho lanciato una grande fai per sbaglio ah l'ho lanciata anch'io ah raggi cosa stai fa? stai giochendo a fortnite no io le parco giochi non credo che le farò infatti adesso mi sa che me ne vado in un altro forte ma perché perché sta giocando un altro gioco giusto ma con chi vuoi boh vediamo ora come unizzato c'è quando c'era la community cazzo alla community ci sono delle community di giochi c'era un cervo c'era un cervo c'era un cervo c'era un cervo c'era una vanga allora non ti lo capro vieni qua però lì faccio l'ultima poi 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 vabbè l'altra parte ma che tra un po' ne stacchiamo se vuoi giochiamo tra poco nuove staccato cioè uno no nel senso stacchiamo da da o fra c'è un orso che insegue delle antilo capre è un due in uno aspettiamo che lo uccida la uccida vabbè mi rinvitate quando giocato ok io gli ho infilato la palla nella macchina fra però non uccidere ci guarda fra c'è un antilo capra se non ti lo capra cioè levati dal cazzo amico non c'erano civile innocenti però se mi cagano le palle io ne ho mazzo continui bene andiamo lì scopriamo se non va un posto sarà un posto lo facciamo stamp se non sono un po' bravo io un po' un po' uno sparavang e allora lo faccio io perché non mi apre il paracadute porco non mi ha aperto il paracadute almeno l'opera boomer no non ce la faccio ad arrivare io quando morirai e non ce la faccio ad arrivare non è bastardo boomer però è fedele se il boomer ci arriva ti fai salvare da boomer boomer salva mio amico mio ah da parlare Cioè ma in life da solo un'ora e mezzo, cioè solo due ore Non sei ancora in life? Sì Ma io sono tipo... Fra sono dentro di te Posso andare anche dentro tipo me Fra io sono morto Se no mi fa più spawnare Sì ti fa spawnare Fermo Mario Ma andava in posto? Fermo Madonna con te li vogliamo Si andava in posto Io non ho sparato Io si Allora vado di giallo Ma c'erano già degli veneti che c'erano già degli veneti che volevano attaccare quindi vai di come vuole che vuoi Ragazzi ci stavamo attaccando in due C'erano degli veneti che stavano facendo spawnare il pacco Guarda Ho rianimato un negro Vai Vai Il negozio Il negozio Dai un lupo di merda Mi ha ucciso il negozio Fra qua ci sono dei lupi però Lupo del cazzo Cazzo voi a lesbica Dove è il lupo? Qua Dai ci ha ucciso Ci ha ucciso il negozio Dai lupo di merda Lupo di merda Qua qua il lupo E' bello che ce n'era un altro questo qua mi ha attaccato lui Ma io qui lancio una salsiccia Esatto E' un cane poverino Eh? Eh? Poverino Ho lasciato una salsiccia Ancora Non l'uccidere france Poverino La sua padrona era la Quella che ha ammazzato il lupo di merda Salsiccia Lo prende il cane Non tira Non è un cane Si è un cane Basta cane Vuoi morire? Vuoi una vanga in derfee? Mi ha rotto il cazzo Devo cacciare Ho delle priorità nella vita Non è esploso niente Un cervo 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 Madonna se lo prendevo con la vanga da qui Guarda c'era venga baccatissima Guarda che lo prende col bar Sono due Mi dopo Mi sono dopatissimo Io mi dopo però dopo non adesso Anche io sono straveloce Mi senti come urlo Ahhhh Quello è un fucking grizzly Mi sono fissato con quel cervo bastardo Fino adesso prendo il cervo Bel cervo Ha ucciso un orso bastardo Un lupo di merda Qua qua C'è un altro che fugge Tu non fuggirai sciocco Dove cazzo è il cervo che non vado più Ah eccolo qui Piccolo lui Sono dell'antirocapra comunque Il lupo l'hai ucciso Dov'è il lupo? Cosa che hai preso tu Mario? Dov'è? C'era un antirocapra Dov'è? Qua Ma dov'è il lupo adesso? Ma lì dove Mario dove? Qui dove sono io fra? Dov'è il fucking globo? Dov'è il fucking globo? Dov'è io corro alla tua foresta Ecco Hai il telefono sparico Ma ma eh? Fra mi si è bugato tipo un botto il migrino Si che non lo vedi? No no vai sulla... Ah no Se vai sulla lae Era peggio E vai in qualche secondo indietro Lo capisci? Perché non te lo posso spiegare No non ce lo voglio Ah che belli i fiumi di Gaudio Siiii Siiii Qua c'è... c'è tanta roba Mario due due ti lo capre Ma io sto vendendo Sono tantissimo Sono fomentatissimo Io mi posso prendere l'MG42 Non mi è sciotta Tipo tantissimo Qual è l'MG42? Quella che volevi prenderti tu Quella ciccione enorme E poi dove cazzo sei tu? Al negozio Fra hanno aggiunto un po' stranissimo Come si chiama? 1887 T Ah 1887 sono più piccolina Non so se prendere l'MG42 Cioè l'87 normale è più preciso però è meno malegevole L'altro invece è meno preciso però è più malegevole Non so quale prendere Non so quale prendere Anche se fuori Anche se c'è questo MP34 Negli armi con la stella che mi ispira molto Pure la M9 Qual è? Qual è? La prima arma è quella in evidenza Spera vang e comunque lancia vang è bellissima Mh Ci ubriamo con i porci Eh ma se uno non ha liquore Comprano Non so se comprare la Beretta O l'MG42 Dove prendere i guanti neri perché ho la mia bellissima amma Spera guarda quanto è T'amaro l'MG42 Ti prego guarda l'MG42 Forse mi prendo qua il Lanchester Quello nuovo Che ne pompe Dai si prendiamoci questo Cowboy di legno Mezzogiorno di fuoco Invece Metallo bollente Beh solo da lupi è bello Qual è quello che ricevi nelle armi speciali? L'MG42 Io anch'io lo voglio Ma eh non ho preso quello Ma secondo me lo prendo io Mi spira un botto È bellissimo No adesso io sono povero 4 dollari Ma perché ho preso Questo qui Secondo me è devastante Guarda che cazzo fa fra Ma bellissimo Cosa che è? È nei pompa È una specie di pompa solo il cecchino Tipo l'altro solo che questo è proprio un pompa È nella cosa dei pompa È alla fine Le ultime armi Io ho preso il 1878 normale C'è anche il T Però ti consiglio il normale La più precisa? Sì Però almeno maneggevole Però quando lo potenzia Aumenta la maneggevolezza Ma è forte? Spara lontano più che altro È abbastanza sì Ma non mi ispira tanto È arriva là in fondo Quindi... Vedete A me piace Voglio comprarmi una mitraglietta Guarda che bella c'è che non la pesca Il Vector è una mitraglietta Mi si sta scaricando il fuck telefono Mi si sta scaricando il fuck telefono Eh, l'ho sentito Per guardare la mia live mi si sta scaricando il telefono Il progetto è la Mp5 Mi piace Ma quale? Ah la Mp5 Mi piace Ma quale? Ah la Mp5 Vai, le possiamo andare a caccia Sperio cambio Non... Boh Non so cosa prendere Devi prendere un'altra pistola Ma qua ci sono le cose di Gaudio Ci sono... E' bruciatutto Ma affanculo le Gaudio Ma affanculo le fucking Gaudio Sè... 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 Fanculo il Gaudio Sè bici Sè bici Sè bici Sè bici Sè bici 4 ok sta bruciando tutto ora non credo, dai perchè l'ho smesso di bruciare dove sei? qua bruciare il gallo sono stra ubriaco dove non vedi un cazzo ma comunque è realistico perchè quando sei ubriaco più o meno è così ma se sei ubriaco e vai nel gaudio ti togli ubriacchezza gaudio di merda non è vero purificati vivere tutto vero tutto un cabello perché e col potredi plot e merda ma io chiamo chiamiamo una schiccia continuiamo laazione che ci sono bellissimi Qua ci sono animali Un puma Sì Guarda qua c'è una vamposa Io sono Ho già finito le obbracchezze Io voglio obbraccarmi tantissimo ma strapello quando sei obriaco C'è tutto il Tutto il rumore da fattissimo Poi sento la musica Sì, non sei l'unico Ma perché qua c'è un Un fucking avamposto E ne ha distruggere Ma dove sei sotto di me A Maria dove cazzo sei Ah ma sei sopra di me Ah ma fai stealth Un cecchino No che non fai stealth L'hai già finito perché no Ma che è già finito Ammetti che è più difficile l'obbriaco Prego Vuoi venire a darmi una mano Oh no no ammazzate quello ammazzate quello ammazzate quello Madonna meno male che l'ho ucciso Semmallarme attivato E non riesco a sparare Ma sto andando a distruggere E neanche io perché uno l'ho già distrutta Vabbè fagli arrivare Ma io voglio fare un fight Da vicino Distrutta Bastardo Lupo di merda Ok l'MP5 Ok l'MP5 Ho scoperto un'arma di merda T'ha schifo il cazzo Solo e bella esteticamente Ma stava fucking volando Come i rinforzi stanno arrivando Ma si è distrutto l'allarme Bene Sono esploso Quando mi hanno vinto Ho fatto esplodere un po' di roba Però vabbè Ah tutto in fiamme Che bello Il fuoco che si spenge Che bello Che bello Che bello Markrai Che bella Che è un'esclusiva In questo gioco Puoi persino creare i livelli Il distributore è importante Per rendere la zona più sicura Ora che è nelle mani dei Cougar Devi livare Beh Voglio uscire una cassa aperta Ma lo dico In teoria c'è sempre Teoria Ti ho chiesto se hai tempo Per una cosetta veloce No 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 Ma te l'ho chiesto Io l'ho chiesto Lo so Non c'è una munchia Sì l'ho trovata Sì l'ho trovata No non è vero Fuck Ah sì sì Mi devo dare un pezzo Sì sì l'ho trovata Sì sì l'ho trovata Ma ci sono anche soldi Vabbè che sono sempre soldi scusa No non intendo Non nella cassa porta La cassa porta Non l'ho ancora aperto 250 dollari Anche 40 lingotti No non c'erano Oh cosa Oh cosa Oh cosa 40 lingotti Ma lesbi Questa è una delle mie like Con più commenti No io non li ho visti i 40 lingotti Eh ma non ce li ho dati Cambia metraglietta Perché quello lì Ma non ci posso far vendere le armi Sta cosa mi sta sulle palle Adesso mi metto la mia bella La mia cacca La mia cacca Come vampiri Ma perché c'è colpo triplo? Come fai colpo? Se puoi Eh? Di solito Come si fa a cambiare La modalità di colpo? Ehm Sai che non ricordo Ho capito Come? Fatto Si Come si fa a cambiare La francese Quando Xèi nella ruota Fai quadrato O Come si fa a cambiare ma che bella la mia cappa mi sono preso per la roma che tipo un cecchino ma io c'è qua un pisello da buttare giù non ho preso e non avevo neanche il cecchino è con l'arma che bisogna farlo esplodere che star ma che poi mettono anche col tuo singolo e i fucili mitragliette no ma la beretta c'è una figata cosa io voglio togliermi il cecchino e mi metto il lanciaro azzia ricerca ma a me non ricerca con lanciaro azzia di merda anzi non mi metto quello per le macchine a me cosa piace in forza ente la la realisti quanto è realistico come spara c'è perché è uguale alla realtà tra più o meno però è una bella notizia di forza net che forse te non interessa non ti interesserà tanto per una cosa rimetto nel lancio azzia a ricerca si solo che lo mettono nel fatto nooo lo mettono più nel fatto di e la su su rainbow tu non puoi capire però perché gioca a rainbow mario qua è piena di bottiglie di rumma quindi adesso mi ubriacherò guarda che sono stra ubriacherò vediamo se mi faccio male ma non ti fai male se sei ubriacherò bellissimo guarda io mi butto dal tetto adesso ma non si che mi faccio male sono morto france perché mi muore così io mi sa che adesso vado fai torneo non lo so non credo su forte non ciò voglio di giocare ma no perché ti passa attraverso il colpo e sparato in testa per mi serve un pilota dai accetta la sua missione no francesco la finiamo di spararli ma sei tu il primo a farlo ma li hai sparato tu è ovvio eh non è vero l'hai mirato tu è ovvio io sono ancora ubriaco sono un cazzo di alcolista ubriaco ma dove sono arrivare però erano sul tetto cioè sono tipo morto mi sa però no ma sul tetto che è tutto fete era incredibile sono felice la salute fete era incredibile si sono morto france dove sei vieni qua io adoro l'arco per far esplodere l'arco per far esplodere gli ericotteri uso il cecchino di solito no io le faccio esplosive incendiare perché dai fuoco al guidatore è bellissimo io vorrei la storia di muovere di ricominciare la storia mi sa che io la ricomincio cioè faccio la roba degli avamposti però dovrei finirli tutti perché mi sta prendendo fuoco le insegna un fucking elicottero no a volte è un'era tutto come era la principale cosa ho usato cosa cazzo sta vado in fiamme siiii siiii ahia ahia france tu l'hai mai visti l'hai mai guardato i video delle moto tu quelle vere contro gli sbirri che le tirano addosso ai cosi anche sommossa ah sei bellissimo guardalo eh no è orribile è una cosa bruttissima no è bellissima ma vanno a fuoco è bruttissimo freccia incendiaria ehi la vuoi una bella freccia esplosiva addosso dai cosa ti sposti questo questo mi fa aiutami uccidimi e lo uccidi ah che bello uccidere la gente con le frecce mi diverto tantissimo c'era la gente con le frecce ma fa malissimo ma fa malissimo beh visto che non ci sono più i diniti io ammazzo i cilini ahhh vediamo quanta missione mi manca ancora quella cazzo di roba di buttare mi manca ancora quella cazzo di roba di buttare mi fa tirare il mio pugno guarda io vamposti e ho finiti tutti si 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 le ho fatti no si 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 le ho fatti tutti vieni qua vieni a vedere guarda che bel motore ahhh ahhh Mario io riattivo tutti che vamposti ok adesso lo sabato l'ho sabotato Io lancio le bistecche così posso ammazzare gli animali Io sto sabotando tutti i veicoli Ma è cazzo volata Franci Ho tirato un pugno ad una è volata Va volata Fra c'è un orso aspetta aspetta che tira un pugno Hai visto? Si Ma perché ho il potenzialmente dei pugni Io voglio breakarmi ancora bellissimo e sarò break Non ucciderlo Bevilò tutto bevilò tutto Qua l'orso No le voglio tirare un pugno Madonna se voglio un gioco Ecco Comunque In Rainbow mi piace la realisticità delle armi Eh si il Rainbow è bello perché è realistico proprio Cioè realistico e tattico Ma a me c'è un motto fa Far Cry cioè la vita Cioè è il gioco più bello che esiste Io ho sempre preferito far Cry e tiri il tuo gioco Tu spari al boomer No ho sparato a te non al boomer Piccolo boomer Ti pare che sparo al piccolo boomer Vai a prendere la palla piccoli C'è un camion Ti ha messo sotto Ti ha messo sotto Ma io ho sparato No 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 è vero Ma sei tutto Sei tutto sporco Ma perché non bruci Che cazzo è Basta che muoio Mi da fuoco Ma che cazzo Sei bellissimo Prova a darti fuoco Passaci davanti Fermo Voglio sparare Adesso io attacco Facciamo una roba Fermo Metti un'esplosivo Tipo Su quel cartello La attacco Va bene Sono inefficiente Devi attaccare Dove vi attaccare un'esplosivo Sul cartello Ma non si attacca Facciamo che ci chiediamo A me allora L'appoggi strada Mettile un po' lontano Oppure mai lascialo lì Weehee Cazzo vai a lesbica Spero sapere cosa cazzo vuoi Lo dice qualcun altro Bello Ma se io le tiro un coltello Esplode No Ma dai Se gli sparo una freccia Esplode No ma dai No aspetta No non esplode Fermo Devo riuscire a fare esplodere Dov'è che è il C4 L'hai messo per strada No lascialo lì Aspetta Non è per quello No lì è troppo vicino È troppo facile Mi allontano un po' La solo lì Devi devare la tua macchina Ma non è Vabbè Ma che ce la faccio Comunque a prenderla Ma l'ho preso? Bella sta macchina Allora non è più No vada mi sto incassando Oh l'ho preso Mi sono tratta via tutto Sì lo senti Vada non puoi capire quanto amo la beretta Ecco che mi ha fatto Mi chiamo Sì ciao Mi spiace far cagare lì E io mi sono tratticato Mi sono tratticato Mi sono tratticato Mi sono tratticato Quella piccola Eh sì Eh sì Vabbè Che fai adesso? Sì adesso ho tanto Sì 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 Io comunque devo staccare Che bummero a terra Grazie Grazie Ho fatto esplodere Quella merda di cosa Mario non uccidere più civili Che se no moriamo Sì sono morto infatti Ma perché ti ti letto Le Maldorf nell'acqua Devo far saltare una L'aereo Eh no Di sorgere Barche È ciocca Perché spari ai civili? Non l'ho sparata Le ho tirato Alza Cos'è cosa che hai detto? Provaci Provaci Hai fottuto con la gang Sbagliata Ma si sta fucking Teletrasportando Non li ammazzare Se non ti sparano Mi stavo sparando Questo qua Stava Ho detto Mi stavo sparando Ho affrontato Quella gang Sbagliata Non ho capito Quanto è che si è messo Sono tutto Giocato Sì Ma io vado Dai Ho giocato anche troppo Bella Bella Aspetta che ha malso Questo prima È bellissima Il mio coltello Ora spero che Non vi sia riuscito La live Ora spero che sia a visita la live e viente ciao